Buongiorno, procediamo con l'appello nominale delle presenze. Fabio Di Lorenzo, Vincenzo Marcorelli, Margherita Riganelli, Doriano Ibrini, Federico Lupi, Giuliano Agostinelli, Maria Antonietta Dalgardo, Anita Poeta, Stefano Cucci, Andrea Berretta, Patrizio Ciccozzi, Andrea Arrivi, Riccardo Santullo. Apriamo la seduta con il primo punto all'ordine del giorno. Approvazione verbali seduta precedente riguardano la seduta del 22 dicembre 2016, se ci sono osservazioni in merito. Era assente solo il Consigliere Arrivi. Possiamo procedere alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Tutti fanno un'astenzione, arrivi. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione elenco immobili da inserite nel piano delle allenazioni e valorizzazioni immobiliari. Passo la parola al Sindaco. Qui parliamo di un atto propedeutico al bilancio. Vengono inseriti all'interno del piano i beni cosiddetti disponibili, quindi quelli soggetti a valorizzazione, quindi o a vendita o a dismissione. Parliamo di due immobili, quando si parla di immobili si parla anche di terreni, in questo caso parliamo dell'otto di proprietà comunale in località Punta Verde e relitto di terreno di 1350 m2, foglio 17 e particella 27. Le stime sono state fatte, i beni sono stati considerati non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e quindi possono essere dei beni che potrebbero essere dismessi e venduti durante l'esercizio finanziario. Ci sono osservazioni in merito? Procediamo con la votazione. Grazie a tutti. Vengono indicate tutte le superfici per quanto riguarda le attività produttive dei lotti che si posseggono a Pietrolo e viene confermato il valore economico di vendita di 37,50 euro al metro quadrato. Per una superficie totale di proprietà da cedere di 43.902. Ci sono osservazioni in merito? La parola al consigliere Santilli? No, solo una richiesta, ma queste sono le stesse aree che incidono poi sul progetto del Borgo del Buon Gusto o sono altri territori? Queste sono le aree di proprietà comunale che possono essere destinate alla vendita. Di conseguenza, essendo il Borgo del Buon Gusto un progetto approvato su quell'area, sono le stesse aree che collimano. Anche laddove il Borgo del Buon Gusto si andrà a concretizzare, comunque sia l'ente locale sarà obbligato a fare l'avviso pubblico per la cessione dei lotti. E quindi questo è l'atto propedeutico eventualmente anche per la concretizzazione del Borgo del Buon Gusto. Quindi procediamo alla votazione del terzo punto all'ordine del giorno, favorevoli all'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli all'unanimità. Quarto punto all'ordine del giorno, approvazione programma per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, di studio, ricerca, ovvero consulenza a favore del Comune di Rignano Flaminio per l'anno 2017. La parola al Sindaco. Questo è l'ennesimo atto propedeutico all'elaborazione e all'approvazione del bilancio. L'amministrazione, come ogni anno, ha l'obbligo di non aumentare la voce di bilancio dello stanziamento dell'esercizio dell'anno precedente. Confermiamo lo stanziamento di mille euro, ma ribadiamo al Consiglio Comunale e ai consiglieri che ad oggi non è arrivata nessuna richiesta da parte degli uffici di consulenza e collaborazioni previste all'interno della normativa specifica. Ricordo e ribadisco che lo scorso anno abbiamo fatto la stessa procedura, ma poi alla fine nessuna consulenza è stata affidata. Ci sono osservazioni in merito? Procediamo con la votazione. Favorevoli? All'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Quinto punto all'ordine del giorno. Approvazione piano finanziario e tariffe tari per l'anno 2017. La parola al Sindaco. Atto propedeutico al bilancio. Qui si parla di tutto quanto quello che è il sistema della politica di gestione dei servizi dei rifiuti. In particolare, sia va a approvare il piano finanziario dei costi, è importante sottolineare due aspetti rispetto all'annualità precedente. La riduzione del costo che il Comune si intende sostenere, la programmazione della riduzione del costo che si sosterrà nell'anno 2017 rispetto al 2016. Vi do grandi cifre e valori. Si passa da circa 1.200.000 a 1.150.000 euro. Quindi c'è un risparmio di 50.000 euro dovuto all'effettiva concretizzazione della raccolta differenziata che sta portando dei risultati in termini economici per quanto riguarda il materiale che viene portato alle discariche e quindi si abbassa il materiale delle discariche e si abbassano quindi il costo che il Comune sta sostenendo. Contestualmente, ribadisco anche in questo contesto, tutte le serie di agevolazioni e di esenzioni che noi abbiamo previsto che sono confermate quello dello scorso anno. Si passa quindi all'esenzione totale per quanto riguarda tutti coloro che sono disoccupati di cassa integrata e mobilità si considera l'esenzione totale sempre su richiesta, questo lo ribadisco al Consiglio, non sono automatico. Ogni anno il cittadino deve presentare richiesta entro una certa data e dimostrare di avere tutti i requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni e delle esenzioni. Si fa riferimento per l'esenzione anche a tutti coloro che sono anziani e che hanno il reddito minimo IMSS al di sotto di una certa soglia che abbiamo stabilito che è quella confermata nell'annualità precedente di 6531,07. Inoltre confermiamo l'esenzione totale per tutti coloro che si trovano all'interno del centro storico e che possono immaginare di fare una ristrutturazione delle facciate. Questo è un modo per continuare quel percorso che abbiamo fatto in passato con la Regione Lazio per il finanziamento per la ristrutturazione del centro storico. visto che quei finanziamenti al momento sono fermi, noi cerchiamo di andare incontro alle esigenze dei cittadini che non hanno beneficiato del primo start-up che la Regione ha fatto per questo rifacimento delle facciate, dando questa piccola opportunità che potrebbe quantomeno essere un viatico per coloro che intendono fare degli interventi all'interno dell'immobile, poter immaginare anche di fare quella nelle facciate esterne. Confermarla quest'anno rispetto allo scorso anno è un modo per dimostrare ai cittadini che potrebbero verificiare anche di più annualità di risparmio se fanno un intervento di ristrutturazione. confermiamo l'esenzione totale per l'adozione di un cane al centro di Bracciano, della Cairite. Qua purtroppo, devo dire, è una cosa che noi portiamo avanti da almeno quattro anni e abbiamo avuto un riscontro al di sotto delle aspettative. Immaginavamo che ci fosse da parte della cittadinanza maggior coinvolgimento, però continuiamo a confermarla perché reputiamo che possa essere un messaggio positivo a lanciare all'interno della comunità. Poi si passa a quelle che sono le agevolazioni, quindi delle riduzioni per quanto riguarda coloro che si trovano con un invalido dentro casa. In questo caso c'è un rapporto tra il reddito familiare e il numero degli invalidi che c'è all'interno del nucleo familiare. Viene confermata la riduzione del 25% per tutti i cittadini che sono iscritti all'albo dei compostatori. Ho dato mandato agli uffici di fare, insieme col corpo della Polizia Locale, di fare un punto, verificare tutta quanta l'effettiva realizzazione del compostaggio topestico da parte dei cittadini e poi riaprire un ulteriore l'albo dei compostatori. Questo è un modo per dimostrare al cittadino che l'albo dei compostatori non è una cosa che uno si scrive e poi dopo non viene fatta, ma è un modo per verificare concretamente quello che i cittadini fanno, ma al contempo pure per dar loro suggerimenti un domani per come poter migliorare quella che è il compostaggio domestico. Inoltre confermiamo una riduzione che devo dire lo scorso anno ha dato dei piccoli benefici, che è quella del 30% per le imprese che assumono almeno un dipendente che è residente nel comune di Rignano Flaminio. Inoltre ci sono una serie di agevolazioni per quanto riguarda le attività commerciali, sulla base dell'avviamento autonomo al riciclo di una serie di prodotti e quindi si può oscillare per esempio dalla plastica per quanto riguarda le attività commerciali che non hanno produzione di beni alimentari, alla carta e quindi c'è tutta una tabella che indica chiaramente quali sono le agevolazioni e lì vedrete che le percentuali uscilleranno dall'una all'altra in base alla produzione concreta di nettezza urbana e in quel caso della materia specifica carta, plastica o vetro da parte delle singole categorie di utenze. Abbiamo confermato anche quest'anno per quanto riguarda le attività commerciali l'opportunità della riduzione dell'umido se applicano il compattatore o individuale dell'umido all'interno delle proprie aziende o attività. Ci sono osservazioni in merito? Passiamo alla votazione del punto. Favorevoli? Contrari? Allora passiamo la parola al consigliere Arrivi per la dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto da parte di Impegniamoci Corignano è una dichiarazione contraria in quanto abbiamo analizzato i vari punti, quello dell'esenzione totale che ci dicevi sul carretite di Bracciano, la reputiamo un po' superflua, avremmo preferito magari un'esenzione totale per un disabile in casa piuttosto che per l'addizione di un animale, anche se siamo amanti degli animali, però vediamo che ho sentito fino adesso che tu mi hai detto che in quattro anni praticamente ci sono state poche adesioni a questo progetto. Quello volevo chiederti infatti se c'era stato un riscontro. Ok, grazie. Beneficio per l'ente in questo caso, a fronte di un risparmio relativo al minore tariffa che si paga per la custodia di un animale, qual è il rapporto tra, poi effettivamente invece il minore introvito derivante dalla tariffa? Perché se c'è un nettone positivo nel senso, ad esempio abbiamo impegnato per il primo semestre 10.000 euro, probabilmente per il secondo semestre se ne impegneranno altri 10.000, quindi 20.000 euro il costo di questo servizio. Se nel caso migliore tutti adottassero un cane, noi risparmieremo 20.000 euro, quale tariffa in meno però incasseremo? Perché se incasseremo in meno 5.000 euro il saldo è positivo e possiamo dire che è una buona iniziativa. Se incasseremo in meno 40.000 euro di tariffa, allora diciamo no, non ci conviene, forse stiamo facendo, come dire, un'azione magari nobile dal punto di vista dell'attenzione agli animali, ma meno nobile, meno efficace per l'ente. Ecco, prima di esprimere un voto su questo vorrei capire se le simulazioni, che cosa... Poi è anche stato detto che in realtà le adesioni sono poche, quindi magari anche un punto diverso, ma capiamo bene se c'è un saldo positivo per l'ente. Grazie. Da questo punto di vista mi date l'opportunità di concretizzare quello che è l'iniziativa, nel senso che noi spendiamo annualmente intorno a 1.000-1.300 euro annui per quanto riguarda la custodia del cane presso il centro, ogni singolo cane. Se voi immaginate un nucleo familiare, nelle simulazioni bisogna vedere poi chi potrebbe essere l'eventuale soggetto che va adottare il cane, ma se immaginate che la singola media famiglia fatta da tre componenti da un immobile di 120 metri quadri con giardino e quant'altro non arriveranno mai a pagare 1.000-1.200 euro. Quindi da un punto di vista prettamente contabile questa è un'operazione vantaggiosa per l'ente, perché si riduce un costo, che è quello del centro di custodia carite e c'è in proporzione una minore in troido rispetto al costo che noi sosteniamo annualmente. Al di là dell'aspetto punto sociale, rispetto nei confronti degli animali dà loro un'altra opportunità. Ma da un punto di vista prettamente contabile questa è una partita per l'ente vantaggiosa. Immaginate si possa spendere intorno ai 1.000-1.200 e la media del minore in troido potrebbe essere al massimo tra i 3-400 euro, a meno che non si parla di case di 500 metri quadri con 15 persone dentro, ma stiamo a parlare che è solo una a Rignano che ci può essere una cosa di questo tipo. Quindi da un punto di vista contabile, economico è vantaggiosa per l'ente. Sì. Pronto? Sì. Via. Allora, pronto. Com'è? Sassa. Allora, no, il mio intervento riguarda innanzitutto il fatto, anzi partiamo proprio dalle ultime cose che lei ha detto, signor sindaco, per quanto riguarda il canile. Lungi da noi, ripeto quello che ha detto Andrea, dal non rispettare gli animali e coloro che li rispettano. Però c'è una bella differenza tra un animale e un essere umano e quindi noi riteniamo che questo regolamento in qualche modo non tenga conto, soprattutto per quanto riguarda le persone con handicap, ne parlavo qualche giorno fa con l'assessore preposto e anzi colgo l'occasione per ribadire la richiesta di una commissione regolamenti per rivedere questo regolamento, per capire se è possibile fare in modo che le famiglie che hanno svantaggi economici e che al loro interno, oltre allo svantaggio economico, hanno anche l'onere di avere una persona con handicap, possono avere più aiuto di una persona che va a prendere un cane a bracciano, anche perché la persona che va a prendere un cane a bracciano non può essere la famiglia con svantaggio economico e con handicap, perché un cane costa se lo tieni bene, se sei un amante dei cani, qualcuno che ce l'ha, io per esempio ce l'ho, so quanto costa mantenere un cane, quindi una famiglia con svantaggio economico e con una persona con handicap di sicuro non può avere questa possibilità, questo significa già togliere ad alcuni strati sociali la possibilità di avere un'esenzione di questa imposta. Fermo restando che al di là del fatto che lei citava i numeri e chiaramente è più conveniente dal punto di vista produttivo, piuttosto che pagare il comune di bracciano così tanti soldi, poi chiedere un'esenzione per rientrare di questa imposizione, ci sono magari tanti altri modi, vediamo di vedere anche la possibilità per esempio, non lo so, magari posso dire una cappellata, di progettarlo noi, un canile, forse questo grande costo annuale potrebbe poi invece diventare per il nostro paese una risorsa, potrebbe essere una possibilità. Come volevo anche sapere, sapevo di un finanziamento preso con il comune di Morluvo per poter fare un canile intercomunale più vicino, che fine ha fatto questo finanziamento, che fine ha fatto questo progetto? Grazie. Ringrazio l'intervento del Consigliere perché mi dà l'opportunità di ribadire alcuni aspetti che probabilmente non ho spiegato in maniera esplicita e chiara. A Rignano tutti coloro che sono disoccupati, cassa integrata e mobilità non pagano la nettezza urbana, quindi le fasce di reddito, quelle deboli, a Rignano da quattro anni non stanno pagando la nettezza urbana. Gli anziani, quindi coloro che oggi sono in una situazione di disagio e fanno ammortizzatore sociale per le difficoltà di lavoro che ci sono all'interno dei familiari e che hanno la pensione minima dell'Inps e quindi un valore massimo della loro pensione annua deve essere di 6531,07, non pagano la nettezza urbana. Quindi le fasce deboli di Rignano nella totalità, anziani, disoccupati, cassa integrati e mobilità non pagano la nettezza urbana. A questo aggiungiamo l'agevolazione che abbiamo fatto del 30% per coloro che hanno un disabile dentro casa o più disabili in base poi alle dichrazioni di reddito. Paragonare i cani con la logica di disabili dal mio punto di vista è errato, nel senso che il disabile ha già una serie di canali per quanto riguarda i servizi sociali di agevolazione, di assistenza, di sostegno. Qui si sta parlando di agevolazioni fatte per quanto riguarda la produzione di nettezza urbana. Il fatto che una famiglia che ha un disabile ha un disabile è importante sottolineare che l'amministrazione pubblica deve andare incontro a questo nucleo familiare, ma la nettezza urbana la producono. Dire che anche tutte le famiglie che hanno un disabile hanno l'esenzione totale, a mio avviso è un messaggio che sbagliamo da un punto di vista di politica dei rifiuti. Dobbiamo fare come è comune tutti quanti insieme delle politiche sociali a sostegno delle famiglie con handicap. Allora lì mi troverete, lì potremo confrontarci e potremo dire su questa cosa puoi far di più o hai fatto sbagliato. Ma in questo contesto il messaggio che noi abbiamo voluto dare con questa riduzione del 30% un'ulteriore vicinanza a questi nuclei familiari, però non possiamo ragionare che ci possa essere l'esenzione. Perché è stata fatta l'esenzione per coloro che invece fanno parte di quella fascia debole? Appunto perché deve essere un messaggio sociale che noi abbiamo voluto lanciare anche in questo contesto, che è un contesto di debolezza, che è un contesto di difficoltà e senza presunzione e senza ipocrisia. Se una famiglia è in difficoltà economica è inutile che l'ente comunale continui a mandare le comunicazioni sui ritardi dei pagamenti e sull'elusione se poi non riesce a pagare. Quindi in questa scelta generale questa è stata l'indicazione. Per quanto riguarda invece il canile, ipotizzare di farlo nella comunità di Rignano noi provammo quando ci insediamo a capire, questa è la vecchia consigliatura, la collaborazione che c'era stata tra il comune, il comune di Morrupo ed altri comuni. Addirittura il comune di Morrupo ottenne un finanziamento da parte della Regione Lazio per realizzare il canile pubblico, in cui ogni comune metteva una quota a parte sia in termini economici e poi aveva anche una quota a parte di spazi per potermi affidare i propri cani. Il rapporto tra la quota a parte che il comune pagava e il numero dei cani era inversamente proporzionale a quello che era conveniente per il comune. Faccio un'ipotesi in termini numerici. Si andava a spendere, immaginate, annualmente tra i 15 e i 20 mila euro per 4 o 5 cani. Quando io spendo quella somma per poter affidare la custodia dei cani in una struttura privata. Quindi da un punto di vista economico non girava il conto, tant'è che per quanto mi risulta ad oggi ancora non si è concretizzata quella iniziativa. Perché al di là del percorso iniziale che la Regione metteva a disposizione il contributo per la realizzazione era la gestione che poi diventava onerosa, perché gestire un cane da un punto di vista normativo è molto specifico, un canile è molto specifico, richiede tutta una serie di attempimenti anche sul personale che si occupa della gestione e quindi non gira i costi rispetto a quello che noi oggi stavamo spendendo. Immaginare di farlo a livello comunale proprio quindi e gestito improprio diventa difficoltoso con il carico che noi abbiamo qua dentro i dipendenti. Quindi dovremmo andare a immaginare di fare delle assunzioni per poter andare a gestire il canile. Allora a quel punto è più bello immaginare, io su questo in maniera privata ho avuto anche vari colloqui, se qualcuno vuole realizzare un'opportunità privatistica il Comune è a disposizione, fanno le richieste, tutte le autorizzazioni del caso, se invece proprio vuole immaginare di farlo su terreni comunali, fanno delle richieste e noi le andremo a valutare. Io non ho la contrarietà su questo. La difficoltà è nella gestione pubblica, perché la gestione pubblica è una gestione difficile. Grazie Sindaco. Una breve risposta a questa cosa. Noi abbiamo messo anche su un programma elettorale che abbiamo fatto, posso fare, le ultime elezioni che abbiamo fatto a giugno, quelle che avete vinto largamente voi. Noi sul progetto che abbiamo fatto, lo leggono sempre in pochi il libricino, però bene o male a qualche cosa serve sempre. Io me lo ricordo, bene o male l'ho scritto, non me lo ricordo. Era proprio questo, il fatto che ogni anno il Comune di Gnano spende intorno ai 30 mila euro per 10, sì tra i 27 e i 30 mila, tanto negli ultimi 10 anni è stato sempre così, perché quanto vuoi. Allora era proprio quello, trovare il modo di fare un messo pubblico privato in cui il Comune metteva il terreno e il privato andava a realizzare delle opere, iniziare a fare cassa noi con gli altri Comuni, riuscire a battere un pochettino il costo che il Comune oggi ha e fare magari cassa ai Comuni di Mitrofi, Santoreste, Valeria, tanto vanno tutti a Bracciano perché non esiste un'altra parte più vicina, non è che andiamo a Bracciano perché uno gli sta più simpatico o meno simpatico. Allora magari l'obiettivo per i prossimi anni secondo me sarà proprio quello, di provare a fare su un terreno un pochettino distante dalle case, se no poi ci stanno quelle che gli dà fastidio, il cane che abbaglia, però non mi sembra di venire un territorio in cui non abbiamo terreni, pure ma sfruttati magari perché sono abbandonati, no? Allora si potrebbe cominciare a pensare, sia la Giunta facendo varie iniziative, varie situazioni, per poter cominciare a progettare e qui a pochi anni alla realizzazione di un canile intercomunale in modo che invertiamo questa tendenza e magari con il risparmio che abbiamo potrebbe ancora incidere in più sulle tasse che pagano i nostri concittadini che oggi non riescono più a arrivare a fine mese. Grazie. Grazie per gli interventi. Passiamo alla votazione del punto. Favorevoli? Contrari? Tre voti contrari. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Stessa votazione di sopra. Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno. Addizionale comunale IRPEF conferma l'iquota anno 2017. La parola al Sindaco. L'oggetto della delibera l'ha già letto il Presidente del Consiglio. Qui si va a confermare l'aliquota dello 0,8 punti percentuali per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF. Ci sono interventi in merito o dichiarazioni di voto? Consigliere Santilli? Su questo tema non c'era documentazione, quindi non c'è sì, non c'è stato. Io su questo il tema 6 e sul 7, servizi a domanda individuale. Infatti se... Io mi sono segnato due fogli bianchi perché... per ricordarmi del punto. No, questo non ce l'ho. Se magari lo possiamo rappresentare, voglio dire... Io vi invito che se succedono queste cose, come vi siete d'accordo, sicuramente ci sarà stato un problema con l'ufficio, adesso non so qual è, magari di farlo presente all'ufficio... L'ho fatto presente, l'ho mandato una mail dicendo mi sembra che non ci sia documentazione su questo e su quest'altro punto. Stamattina ho anche chiamato telefonicamente e mi hanno detto no. Ok. Ragazzi, io ho mandato una mail. Prendo la mail, scusate. No, 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 io non voglio... Guarda, lo sto facendo senza nessun spirito di polemica, allungi da me. È solo per capire se mi astengo o voto a favore, ma non è che sto... anche perché è una conferma, quindi non stiamo parlando di cose segretissime. Lo dico nella massima serenità. No, aspetta, 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 aspetta. Ascoltate, ascoltate. Fatemi un attimo di tempo, ve lo dico. Allora io rispondo... Consiglio per due minuti, a me non mi fai... Sì, poi vi dico... Al sesto punto all'ordine del giorno, ripasso la parola al sindaco che aveva già confermato appunto la delibera, non so se deve aggiungere qualcosa... Allora, entro meglio nel merito della delibera. Si conferma l'aliquota dello 0,8%, che è l'aliquota che oramai al comune di Rignano Flaminio va avanti da almeno un decennio. Per quanto riguarda le esenzioni, aggiungo questa cosa, per questo qui proprio che si è verificato, c'è l'esenzione totale per coloro che sono al di sotto della soglia di 3.500 euro. Quindi tutti coloro che hanno l'IRPEF al di sotto di 3.500 euro non pagano l'addizionale comunale dell'IRPEF. Questa è la verità. Ci sono interventi in merito? Passiamo alla votazione del punto. Favorevoli? Favorevoli, ma parola. All'unanimità votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno. Servizi a domanda individuale, entrate derivanti ai relativi costi. Esercizio finanziario 2017 è la delibera che attesta la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale. Passo la parola al Sindaco. Allora, qui si vanno a mettere in evidenza, anche questo è un allegato di bilancio, e si mettono in evidenza i quattro servizi fondamentali per poter contribuire con la contribuzione da parte del cittadino. Si parla di mensa scolastica, soggiorni estivi per anziani, scuola, bus e asilo nido. La totalità dei quattro servizi richiede una compartecipazione dell'ente del più del 30%, quindi significa che il cittadino versa al di sotto del 70% del costo. Ribadisco e ricordo a tutti quanti voi che si parla di servizi a domanda individuale, quindi richiesti ad hoc da parte del cittadino. Entro nel merito direttamente della proposta, viste le difficoltà che ci sono state. Per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica, il costo previsto per quanto riguarda l'intervento della mensa sono di 325 mila euro, la contribuzione al carico del cittadino di 210 mila euro. Quindi il cittadino versa intorno al 64% e la parte rimanente circa al 36% è a carico dell'ente. Il servizio di scuola, bus, tutto completo, credo il costo è intorno a 100 mila euro, la contribuzione da parte del cittadino è di 60 mila euro. Quando vedete delle cifre ben definite è in base alla tariffa individuale di costo, quindi quando vedete 60 mila è perché il costo è chiaro e quindi automaticamente si paga su base mensile, mentre per quanto riguarda la mensa si paga singolarmente ogni singolo buono pasto. In questo caso quindi il comune ha una compartecipazione del 40%. Sull'asile nido invece l'intervento di spesa sono 182 mila euro e 148 mila euro è ricavato del comune. Questo non significa, lo metto in evidenza, che la contribuzione totale del cittadino è dell'81,76% perché una quota parte del valore di 68 mila, 803,62 è il contributo del ristoro che la Regione Lazio fa nei confronti del comune. Quindi il cittadino su un costo di 182 mila euro del servizio, gli uffici hanno previsto uno stanziamento in entrata di 80 mila euro, ma l'ente ha una compartecipazione del 18% perché c'è questa quota aggiuntiva che la Regione Lazio dà all'ente locale. L'ultimo servizio di cui parliamo è il soggiorno estivo per ranziani in cui il costo annuale stimato e previsionale perché questo poi lo potremo vedere soltanto alla realizzazione in base alle iscrizioni che accadranno. Saranno 25 mila euro, mentre il valore di compartecipazione del 17,2 per un valore totale della contribuzione comunale di circa il 31,5%. Questo è un po' il rapporto e l'andamento tra i servizi domande individuali, la contribuzione del comune e il costo a carico del cittadino. Ci sono interventi in merito? Consigliere Arrivi? Una domanda sui servizi a domanda. La copertura non dovrebbe essere del 100% in base agli utenti? Sì, prima era così. Prima era che il 100% veniva fatto da chiuso fuoriato di quel servizio, visto che sono servizi a domanda. Un'altra cosa, proprio su quanto riguarda i servizi, su tutte queste cartelle, su queste cose, è stato un po' fuori tema, però io ci tengo perché secondo noi è una cosa importante. Abbiamo fatto già pure una richiesta protocollata ieri. Abbiamo visto che tanti comuni hanno fatto la rottamazione degli interessi sulle multe e tutte queste altre cose. E vorremmo sapere se era possibile fare il prima possibile una riunione di regolamento su questa situazione. Visto che arrivano tante cartelle, alcune sicuramente pure giuste, alcune sbagliate, ma ne paga quasi nessuno perché non c'hanno proprio la possibilità, i cittadini penso, perlomeno buona parte, poi c'è pure chi ci marcia sicuramente. Però se noi penso che andiamo in cede sotto un regolamento dove va via gli interessi e la mora al comune fondamentalmente non cambia niente, sicuramente faremo un buon servizio per la cittadinanza e riusciremo magari a intruidare quelle tasse che sicuramente sono giuste a pagare. Grazie. La contribuzione da parte del cittadino non può essere il 100% perché essendo comunque servizio annuale la legge impone all'ente locale un minimo di compartecipazione. Noi siamo ampiamente al di sopra di quel minimo, ma questa è stata una scelta nostra amministrativa e quindi il servizio deve essere coperto nella totalità del 100% tra la contribuzione che il cittadino fa o finanziamenti regionali come avete visto per l'Asilo Nido e la quota a carico del comune. Per quanto riguarda la rottamazione al volo poi troveremo un'altra sede per discuterne. Un confronto è necessario, non ho problemi, lo organizziamo e non c'è alcun problema. Io ho un'idea un po' diversa da questo punto di vista, nel senso che calcoliamo sempre che gli interessi sono un obbligo di legge che non possono essere mai annullati perché altrimenti è danno all'erario. Per quanto riguarda le sanzioni, lì dobbiamo fare dei ragionamenti con il nuovo responsabile della ragioneria che verrà, perché per ogni sanzione che viene annullata si fa un minor gettito per l'ente e soprattutto si manda un messaggio sociale alla comunità che in questo momento secondo me non è positivo, nel senso che se il cittadino, parlo di me almeno non offendo nessuno, Fabio Di Lorenzi è risultato elusore o meglio sì ancora evasore totale nel 2012, ipotizziamo, oggi il cittadino Fabio Di Lorenzi si trova a pagare un quid più dovuto non soltanto dagli interessi che hanno un valore ridicolo in termini percentuali ma soprattutto delle sanzioni e quindi crea un distinguo sociale di equità tra colui che ha pagato nel 2012 regolarmente e colui che dopo cinque anni ancora non ha pagato e si vede la cartella arrivare dall'ente. Nel ho tolto la differenza tra il Fabio Di Lorenzi che paga nel 2012 e il Fabio Di Lorenzi del 2017 che ancora non ha pagato e soltanto l'interesse di Mora che credetemi rappresenta su una cartella di 100 euro un euro. Allora io devo dare un messaggio a questa comunità che le tasse vanno pagate perché se paghiamo tutti possiamo permetterci di riturre anche quel quid in più, però ribadisco questo è il mio modo di ragionare, poi faremo una commissione aperta a tutti, quanti consigliano, non ho problemi, a porte chiuse lo facciamo quando sarà arrivato il nuovo responsabile della ragioneria e vedremo che significa in termini economici e in termini anche di messaggio sociale che poi l'ente intenderà a inviare. Io vedo qua che sono le anticipazioni di cassa dell'istituto di tesoreria, appunto, siamo qua, è lo stesso, la prima pagina, tu stai a voi, è stata pagina tua, pagina un'altra. Ah scusa. No, 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 io ho risposto all'osservazione. Beh. In merito votiamo il punto favorevoli, votiamo anche l'immediata eseguibilità, favorevoli e Santilli era, sì. Votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli, punti, contrari, come sopra... A questo punto io chiedo l'inversione dei punti all'ordine del giorno e chiedo al Consiglio Comunale l'autorizzazione per splittare i punti 15, 16 e 7 e farli diventare appunto 8, 9 e 10, perché essendo tre punti necessari per l'approvazione del bilancio è necessario approvarli prima dell'approvazione del bilancio, quindi farà una richiesta unica per tutti e tre punti. Allora, se non ci sono osservazioni in merito, votiamo questa richiesta di inserimento dei punti 15, 16 e 17 a questo punto, che quindi diventano 8, 9 e 10, votiamo per questa proposta, favorevoli all'unanimità. Quindi passiamo all'ottavo punto dall'ordine del giorno, che diventa determinazione a liquide per l'applicazione del tributo servizi indivisibili, tasi, conferma liquide per l'anno 2017. La parola al Sindaco. Anche qua appunto parliamo di un allegato fondamentale per quanto riguarda l'approvazione del bilancio comunale e con questa delibera noi andiamo a confermare quello già fatto in precedenza e quindi le tariffe della tasi del 2016, del 2017 vengono confermate rispetto all'anno di vado a 2016. Ci sono interventi in merito? La dichiarazione di voto. Consigliere Arrivi. Contraria, in quanto non abbiamo avuto modo di poter partecipare a nessun incontro, soprattutto in commissione consigliaria. Questo vale un po' per tutto il bilancio. Mi dispiace anche che non ci sia stato Federico oggi, il Presidente, perché gliel'avevo fatto presente nella riunione di Capigruppo, che non abbiamo affrontato abbastanza il capitolo del bilancio, soprattutto per avere delle tematiche essenziali. Poi colgo l'occasione, glielo dico proprio al Sindaco che è qui presente, perché se no non c'è avuto mai modo, se può rispondere alle varie interrogazioni che abbiamo presentato, perché sono pure scaduti termini di risposta. Tutto lo faccio presente proprio per questo. Grazie. Allora, per quanto riguarda la, ci tengo a chiarire, per quanto riguarda la risposta alle interrogazioni, oggi non era possibile portare in Consiglio Comunale, credo già lo sapete, la discussione delle interrogazioni, perché quando si parla del bilancio non è possibile mettere le interrogazioni. Quindi credo che il Presidente del Consiglio, nel primo prossimo Consiglio utile, porterà le interrogazioni. Credo che il Sindaco però voleva anche rispondere a quest'ultima situazione. Aggiungo inoltre che ha già dato mandato agli uffici già da tempo di fare le relazioni propeteutiche alle risposte. Immagino che al massimo nella settimana prossima questo si concretizzi, perché le ho lette già io le risposte, quindi me le devono soltanto trasmettere ufficialmente, quindi appena ce l'ho ve le giro subito. Da parte mia c'è tutta l'intenzione di mettervi nelle condizioni di poter conoscere le attività amministrative interne. Mi dispiace, me ne assumo io la responsabilità in quanto Sindaco dei miei ritardi, se i miei uffici ancora formalmente non mi hanno trasferito la documentazione, che appena ce l'ho ve la giro sicuramente tutta. Per quanto riguarda il punto all'ordine del giorno, per quanto riguarda il bilancio, diciamo senza polemica e senza niente comunque la documentazione stava di messa a disposizione già per tempo da parte di tutti i consiglieri comunali e quindi di conseguenza l'opportunità di confronto c'era al momento in cui uno voleva fare anche degli emendamenti o delle proposte aggiuntive. La prossima volta potremo immaginare di fare una riunione ad hoc di commissione, nonostante la normativa preveda i 20 giorni della commissione per la posizione per fare gli emendamenti, di immaginare che in questo frangente dei 20 giorni ci possa essere una commissione ad hoc, perché ribadisco, la normativa ti richiede che voi abbiate la documentazione a disposizione, se poi uno vuole chiedere un incontro, un approfondimento non c'è problema, calcoliamo sempre che questo bilancio nel rinterregno tra l'approvazione del bilancio in giunta e l'approvazione del bilancio in consiglio comunale è venuto a mancare la figura dei responsabili della ragioneria e di conseguenza è stato sul tavolo un po' complicato immaginare un confronto da questo punto di vista. Consigliere Berretta. Solo brevemente, ringrazio il sindaco e raccogliamo l'invito, la nostra è proprio la volontà quella di altri numeri di bilancio che giusto rispettano alla maggioranza e lungi da noi potete immaginare di andare a modificare delle situazioni, la nostra era proprio una richiesta quella di fare degli incontri preguiseuti a delle tassazioni, tutte queste altre situazioni in cui sia noi, ma penso anche Riccardo e il Movimento 5 Stelle, per portare delle proposte che i nostri concittadini ci fanno, che magari potrebbero essere propositive e potrebbero andare ad aiutare a studiare delle scoglie delle situazioni. Per quanto riguarda le risposte, la settimana prossima ce le aspettiamo perché noi, perlomeno le nostre, sono a risposta scritta no al Consiglio Comunale, poi se servirà un approfondimento faremo le richieste del Consiglio Comunale. Grazie. Consigliere Martilli. Sono chiarimento procedurale, votiamo ogni singola proposta o le votiamo in broccia? Ok, perché dopo va bene. Al punto della discussione ottava, determinazione aliquote per la Tasi, e ricordo al Consigliere Berretta che ovviamente è vero che non è stata organizzata questa riunione, però i Consiglieri hanno tutto l'anno per fare le proposte anche sul bilancio, quindi invito al Consigliere, se ha proposte sul bilancio, di poterle fare anche nei tempi dovuti. Quindi, passiamo alla votazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno, favorevoli, contrari, tre voti contrari, sempre Ciccozzi, Arrivi e Berretta. Votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, come sopra. Passiamo al nono punto all'ordine del giorno. Determinazione aliquote e detrazioni in posta municipale propria. IMU conferma aliquote e detrazioni anno 2017. La parola al Sindaco. Anche qua sulla base della normativa e sulla base degli atti predisposti dall'amministrazione, in particolare dall'ufficio competente, confermiamo le aliquote per quanto riguarda l'IMU dell'anno 2016 e per l'anno 2017, con tutte le relative agevolazioni e detrazioni. Ci sono osservazioni in merito? Consigliere Arrivi? Ci sono. Quindi, passiamo alla votazione del punto all'ordine del giorno. Favorevoli? Arrivi e favorevole? Eh, però se ci fate, allora, favorevoli, contrari, tre contrari, immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, come sopra. Passiamo al decimo punto all'ordine del giorno. Approvazione, programma triennale delle opere pubbliche 2017-19, delenco annuale 2017. La parola all'assessore Levrini. Andiamo ad approvare con la proposta il programma triennale delle opere pubbliche, che è un atto propedeutico al bilancio. È stato già adottato con la delibera di giunta comunale, la 127 del 13 ottobre 2016. E questo non è altro che la programmazione che l'ente intende realizzare nel corso dell'anno, sperando nel corso degli anni successivi, delle opere pubbliche. Consigliere Santilli? Allora, sì, su questo chiedo, nell'elenco delle opere, volevo chiedere un chiarimento, tutte le opere che sono stabilite e inserite all'anno 1 saranno realizzate entro il 2017? La maggior parte, cioè tutte queste opere ovviamente sono state, abbiamo fatto delle richieste di finanziamento alla Regione Lazio, questo è da dire, e quindi magari fosse che ce le finanziano tutte quest'anno. Siamo in attesa e stiamo vedendo di poter utilizzare questi, di poter essere finanziati. Però a questo punto sarebbe... In base all'ordine che vedete, cioè primo anno, secondo anno e terzo anno, è la stima di realizzazione che l'ente immagina. C'è una distinzione ulteriore tra le fonti di finanziamento. Nel momento in cui uno ottiene la possibilità di ricevere il finanziamento, si fa il cronoprogramma. Fare il cronoprogramma in questa fase, antecedente all'elaborazione del contributo e la concessione del contributo da parte regionale, creerebbe desequilibri di bilancio, perché poi dovremo andare a splittare su più annualità un intervento e garantire già in questa fase una fonte di copertura finanziaria in entrata, che ad oggi non è certa. Quindi quando facciamo il piano triennale delle opere noi facciamo l'immaginazione di quella che potrebbe essere realtà. Per alcune richieste di finanziamento dovete immaginare che è obbligatorio l'inserimento nel piano triennale delle opere appena il decadimento della richiesta, la decadenza della richiesta. E quindi è vincolante inserirlo nell'annualità in cui uno presenta la richiesta di finanziamento. La cosa importante del piano triennale delle opere, da questo punto di vista, quell'opera che io intendo sottolineare al Consiglio Comunale, è il proseguimento dell'opera la Croce Murella, che quella invece è fatta da finanziamenti propri comunali e quindi da ricavato della Bucalossi, da ricavato della legge dei sottotetti del piano casa, che quella è l'unica opera oggi in termini di concretizzazione che potrebbe vedere il proprio inizio nel 2017, però soltanto nel momento in cui l'ente avrà garanzie di entrata per quanto riguarda e la Bucalossi e le altre fonti di entrata. Ci sono interventi in merito, Consigliere Santilli? Quindi questo piano ha un valore di previsione, di orientamento della spesa. E un'altra cosa, è stata fatta una relazione poi al piano, voglio dire una relazione accompagnatoria con un'analisi dei bisogni del territorio, no, no, io dicevo proprio un'analisi in cui andava opera per opera a descrivere se c'era un'esigenza particolare, se si era stata fatta un'analisi dei bisogni sul territorio, del perché dell'opera piuttosto che un'altra, quindi della spesa, eccetera, eccetera. Non la scheda con scritto faremo l'opera X e impegniamo 100 mila Euro, cioè un'azione che accompagna, sì, una parte descrittiva che anche da, come dire, che dà anche evidenza di un'analisi dei bisogni, perché fare questo piuttosto che, no, perché impegnare 500 mila Euro per un anfiteatro piuttosto che per un'altra opera. Ecco, mi chiedevo, perché guardandole così nude e crude, su certe scelte non c'è una motivazione apparente, se non quella di chi dice, per me sarebbe bello farlo. Una vera e propria relazione collegata a ogni singola richiesta di finanziamento e ogni singola opera inserita nel piano triennale non c'è. C'è un progetto preliminare che va a immaginare in l'area specifica quello che l'amministrazione intende sostenere. È logico, vanno viste singolarmente le opere, nel senso che un'opera, per esempio quella che hai citato, dell'anfiteatro è il continuum di un'iniziativa fatta con le scuole, con l'istituto superiore dei geometri, in cui si fece questo progetto di concretizzazione da parte loro di un'annualità di studi, portando poi a realizzare questo anfiteatro. Quindi per dimostrare alle scuole che quella non era una cosa morta in quell'anno di realizzazione, noi continuiamo ogni anno a fare la richiesta di finanziamento agli organi superiori. È logico, e per l'opera, e per l'importo economico, dire che domani mattina è prioritario fare un'opera di questo tipo nel momento in cui l'ente ha risorse proprie, la risposta non è questa, tant'è che vedete nelle fonti di finanziamento si mette sempre la Regione e non nei contributi comunali. Nel momento in cui noi si parla di opere in generale per quanto riguarda le richieste di finanziamento in Regione, le richieste di finanziamento presentano alcuni capitoli con alcune materie specifiche. Nell'ambito di quelli capitoli, di quelle materie specifiche, l'amministrazione fa una valutazione delle priorità che immagina su quell'argomento specifico e quindi porta avanti una richiesta di finanziamento. Però a monte, immaginare che c'è una relazione descrittiva che indica il fabbisogno generale e quindi la modalità della scelta accade ma non viene formalizzato con un atto scritto. Assessore Levrini. Comunque, Riccardo, praticamente se leggessi bene con tutte le leggende, praticamente è questa poi la relazione, perché ad esempio le priorità è proprio il Ministero che detta dei codici a cui poi l'ente fa riferimento e quindi l'ente decide se è una priorità minore, massima o minima. Già nelle schede viene eletta questa. Siamo alla votazione del punto all'ordine del giorno. Grazie. No, questa è quella di opere. Sì, vabbè, è un'opera. No, è una precisazione sulle opere, perché secondo me vota contro le opere pubbliche è proprio da incoscienti, quindi a di là di che uno non ha fatto la commissione e tutto il resto. Penso che è un dovere quantomeno astenersi e dar mandato all'amministrazione porta avanti alcuni progetti. Rispondendo un pochettino anche a Riccardo, le priorità penso che il Comune li dà sui fondi propri, quelli che mette, mentre le altre sono tutte richieste di finanziamento che la Regione Lazio tira fuori ogni anno degli scarni, che secondo la Regione Lazio sono le cose più importanti. Uno partecipa, no perché dice facciamo qualcosa tanto per farla o il libro dei sogni, più che altro è vero che magari delle cose non saranno delle priorità, ma un Comune come Rignano è anche una piccola opera, una strada, un'altra cosa secondo me è importante attaccarsi pure a tante situazioni. Fermo restando che, a ragione Riccardo, ci saranno delle priorità che mi auguro l'amministrazione porti avanti con fondi propri piuttosto che altre situazioni. Grazie. Sine del giorno, favorevoli, contrari, un voto Santilli contrario, astenuti, tre voti di astensione, Ciccozzi, Berretta e Arrivi. Votiamo anche l'immediata eseguibilità del punto, favorevoli, contrari, Santilli, astenuti, Ciccozzi, Berretta e Arrivi. Passiamo ora al punto quindi undici del Consiglio Comunale, approvazione e bilancio di previsione esercizio finanziario 2017-2019. La parola al Sindaco. Questo forse è lo strumento vitale per l'amministrazione comunale e devo dire con una certa soddisfazione che lo Stato almeno non ha fatto le proroghe per l'approvazione dei bilanci di previsione e quindi di conseguenza almeno non arriviamo a fine marzo che abbiamo una certezza su quella che sarà l'annualità davanti anche se già sono passati tre mesi. E questo ci permette di poter avere una programmazione diversa rispetto a quello che era accaduto negli anni passati perché addirittura un anno approvamo il bilancio di previsione a ottobre perché lo Stato fino al 30 settembre ci cambiò tutte quante le impostazioni di come poter fare il bilancio. Questo invece c'è il bilancio armonizzato, il nuovo sistema contabile, è un sistema contabile che mette in evidenza maggiormente una politica in termini anche di cassa e di certezza delle entrate. Con questo nuovo sistema ecco perché prima dicevo al Consigliere Beretta io ho una ritrosia per andare a creare delle agevolazioni per coloro che ad oggi ancora non risultano pagatori in regola delle imposte perché con il nuovo sistema di bilancio il tutto va sulla base di quanto uno dello stanziamento annuale immagina e quanto poi incassa a fine anno perché vengono fatti dei capitoli ad hoc per quanto riguarda le garanzie dell'ente e quindi con i nuovi sistemi contabili dovete immaginare che non si può più realizzare una voce fittizia di entrate X senza dare una percentuale in termini di copertura a garanzia della spesa che possa andare a garantire quell'entrata. Che significa? Ipotizziamo che domani mattina il Comune di Rignano Flaminio dichiari che andremo a incassare un milione di Euro dalla Bucalossi, quindi un esempio concreto. Nel frattempo fa investimenti sulla Bucalossi, prima poteva fare investimenti per pari un milione di Euro. Ora anche se incassi un milione di Euro al momento in cui tu fai la previsione una quota percentuale di quel stanziamento deve essere comunque destinata a accantonamento rischi, a un fondo chiamiamolo di accantonamento rischi e questo è un modo per dimostrare, e quindi lo condivido e lo sposo appieno questa imposizione che gli enti sovracomunali ci hanno fatto, che i bilanci si devono pulire di tutte quelle fatti specie di residui su cui erano costruiti i bilanci comunali. Devo dire, e qui lo sottolineo con soddisfazione, il mio precedente mandato abbiamo fatto un'ampia premonizia dei residui che l'ente comunale aveva. Il revisore ci fa l'invito e lo ringrazio a dare un'ulteriore analisi dei residui sia attivi che passivi e io ho già dato mandato alla ragioneria attualmente con la figura dell'interim e poi successiva di fare un'ulteriore verifica ancora, perché questo anche se richiede una contrazione per quanto riguarda il bilancio, infatti se vedete i dati di bilancio di quest'anno sulla parte corrente rispetto all'annualità precedente si riducono ulteriormente. Questo un po' perché sono state tagliate le entrate e se vedete i dati di analisi delle entrate noi abbiamo messo in bilancio la somma che abbiamo incassato l'annualità precedente, quindi è una certezza quella che noi stiamo mettendo in bilancio, non mettiamo tra virgolette una previsione in cui immaginiamo che da Limo incassiamo 2 milioni di Euro, no, lo scorso anno abbiamo incassato una somma e orientativamente quella somma abbiamo riscritto quest'anno, quindi partiamo da dei dati certi e questo ci permette appunto di evitare che nell'annualità i residui possano essere sempre inferiori, perché noi dovremmo arrivare a immaginare a un bilancio in cui i residui corrispondono, non dico a zero, ma poco ci dobbiamo essere, questo per dare due risposte indirette anche al revisore, perché con questo sistema noi andiamo a ottimizzare le politiche di bilancio e quindi la programmazione finanziaria, ma al contempo andiamo a sopperire al deficit strutturale dell'anticipazione di cassa e quindi è fondamentale dal mio punto di vista, sempre per riprendere la logica della rottamazione delle cartelle, dare un segnale chiaro perché nel momento in cui io potrò ridurre l'anticipazione di cassa soltanto con una manovra di effettivo in riscossione delle tasse che i cittadini devono pagare, nel momento in cui io do un messaggio invece di abbattimento di quelle che sono le sanzioni, dal mio modo di ragionare c'è il rischio che il cittadino faccia che cosa? Tanto comunque tra cinque anni ci faranno pagare al massimo un euro, due euro ogni cento e quindi rimando il pagamento, invece il cittadino deve sapere e questo vi do conferma che accadrà brevissimo, che se non paga nei tempi opportuni immediatamente il Comune attiva subito le procedure, tant'è se vedete ogni anno che stiamo andando avanti noi abbattiamo la differenza tra la lotta all'evasione dell'annualità rispetto ai cinque anni, nel 2011 si poteva fare fino al 2016, il 2012 fino al 2017, noi già oggi non siamo al 2012 ma siamo al 2013 per quanto riguarda se non sbaglio l'Imo e se non sbaglio l'Atari, questo è un messaggio chiaro e ho dato mandato ai miei uffici di immediatamente, su tutti coloro che non hanno pagato la nettezza urbana del 2016, fare una comunicazione perché c'è tutta una procedura prima di poter arrivare a fare il fermo amministrativo o applicare tutte le sanzioni del caso, quindi ho già dato mandato agli uffici su quelle che sono scadute al 31-12-2016 di fare immediatamente la segnalazione e partire subito con le procedure, questo perché col nuovo sistema contabile più che le uscite diventa fondamentale il sistema sulle entrate e diventa fondamentale il sistema di riscossione, si sta ribaltando quello che è il sistema della logica amministrativa, tanti anni fa le amministrazioni comunali senza polemica e senza niente ma dappertutto prima facevano le uscite e poi facevano le entrate, ora invece il sistema è totalmente diverso e questo può essere una soluzione anche e soprattutto per il problema che il revisore ci segnala e che per me è noto ma dipende fondamentalmente dai mancati trasferimenti dello Stato che è quello delle anticipazioni di cassa, perché se voi vedete i trend delle anticipazioni di cassa, nel momento in cui lo Stato abbatte il trasferimento dei fondi statali, introduce l'Imo, introduce la Tasi e introduce tutta la serie di aliquote che stanno a carico del Comune e che passano la stragrande maggioranza col modello F24 verso lo Stato, si crea questo delta di differenza, uno perché prima il trasferimento era certo, ora invece il trasferimento non è certo perché dipende dai pagamenti che i cittadini fanno delle relative imposte. Secondo aspetto fondamentale, il modello F24 non entra all'interno delle casse comunali e poi è il Comune che trasferisce la quota parte del Limo o il ristoro della Tasi allo Stato come era in precedenza, ma invece è lo Stato, il F24 va allo Stato e poi a sua volta lo Stato dopo mesi lo trasferisce all'ente, ma nel frattempo l'ente è obbligato però a fare i pagamenti, nel frattempo l'ente è obbligato a continuare a fare gli impegni, perché se vedete il bilancio nella sostanza del Comune, il nostro oramai è diventato un bilancio prettamente tecnico, di scelte della politica se ne fanno ben poche, perché una volta che abbiamo tolto una serie di contratti che farnano della nettezza urbana che è una partita di giro con la Tari, del global service delle strade, del taglio del verde, dello scuolabus e di tutti i servizi a domande individuale, la politica qua dentro oramai decide i servizi sociali e qualche iniziativa culturale o qualche iniziativa nei vari settori, ma oramai il bilancio del Comune di Rignano credetemi è un bilancio prettamente tecnico, in cui l'impostazione che l'amministrazione comunale fa, lo fa più che, immagino Rignano come tutti i comuni, perché non è che noi siamo speciali rispetto agli altri, la realtà è che le difficoltà sono talmente evidenti e quindi le scelte che noi abbiamo fatto in questo bilancio le abbiamo concentrate essenzialmente su quelle che sono stati i servizi sociali. Nei servizi sociali, entro proprio nello specifico, abbiamo introdotto, avete già visto che noi siamo andati con l'approvazione del bilancio in giunta a fai mettere anche gli avvisi, perché altrimenti rischiavamo che da questo punto di vista i cittadini potessero con l'approvazione del bilancio, con la pubblicazione degli avvisi di arrivare ai primi di maggio che ancora non venivano concretizzazioni tutte quelle che sono le assistenze che necessitano e devo dire che con i servizi sociali abbiamo confermato quella che era la politica e noi stavamo intendendo portare avanti e quindi la logica degli avvisi pubblici, la logica delle varie iniziative, dagli inserimenti lavorativi ai voucher alimentari che quest'anno li abbiamo trasformati, perché ogni anno uno deve cercare sempre di migliorare le cose, dal voucher alimentare, inizialmente se vi ricordate eravamo partiti da voucher alimentari, può trasformare in voucher alimentari nominativi, quest'anno abbiamo scelto di fare i pacchi alimentari, questo è un modo per riuscire ad aiutare di più quella che sono i cittadini, è logico a carico dell'ente e di tutte le squadre che sta intorno all'ente c'è un aggravio maggiore di lavoro perché richiede una fornitura e richiede anche la distribuzione, ma da questo punto di vista è un modo per andare ancora più a entrare nel merito e nella concretizzazione della difficoltà. Una novità che abbiamo introdotto, l'abbiamo fatto quest'anno rispetto agli altri annualità non per esigenze né di bilancio né di scelta politica, ma perché quest'anno è venuto meno quello che era un contributo fondamentale che era quello del contributo affitti che la Regione ogni anno faceva, invece sono tre anni che la Regione non emette più questi avvisi. Abbiamo fatto anche qua l'avviso pubblico per un piccolo contributo nell'ambito di quello che il Comune può fare alle famiglie che si trovano in condizioni di disagio e che hanno con un contratto regolare un immobile in affitto. Altri aspetti fondamentali che voi vedrete in bilancio su questa annualità è la continuazione di quello che è il percorso della, vi entro proprio nel merito settore per settore almeno vi do grossi chiarimenti, per quanto riguarda la continuazione del percorso della variante al nostro piano regolatore. Era necessario finanziare in quota parte per questa annualità con la logica del cronoprogramma, la valutazione ambientale strategica e quindi di conseguenza qui vedete in bilancio le somme stanziate per portare avanti questa iniziativa, così come il piano attuativo del centro storico. Per il piano attuativo del centro storico la prima fase, la fase progettuale di prettamento urbanistica è già da stare elaborata, la regione ci ha chiesto di avere anche qua, se ci hanno bisogno poi diamo chiarimenti, una valutazione ambientale strategica anche per il piano attuativo del centro storico e abbiamo finanziato anche questo. Quindi da una parte si fa emergenza e quindi si fa sociale e dall'altra si cerca di fare programmazione per garantire lo sviluppo della comunità sempre nell'ambito delle difficoltà che l'ente ha per questi fenomeni nuovi principi contabili che ovvero ha messo in evidenza. Al contempo si cerca di fare anche prevenzione e quindi abbiamo immaginato quest'anno per una volta nella storia del comune di Rignano, Rignano paese della salute, stiamo facendo tante iniziative di comunicazione per sensibilizzare il cittadino sull'importanza della salute, adesso vedrete nel dettaglio abbiamo già se non sbaglio deliberato la settimana scorsa o andremo a deliberare nella prossima settimana delle iniziative concrete di screening su tutte quelle fasce di età che la Regione e l'ASL non finanziano. Noi ci siamo resi conto che da questo punto di vista purtroppo e nella nostra comunità ma in generale c'è un alto rischio di tumori per esempio per quanto riguarda fasce di età che sono al di fuori di quelli che sono gli screening obbligatori che l'ASL fa. Abbiamo richiesto informamente all'ASL di poter abbassare queste soglie di controllo e abbassare le soglie di età, l'ASL per solite ragioni economiche ci ha risposto che non ha l'impossibilità a farlo e questo anno abbiamo deciso di farlo noi direttamente quindi faremo un avviso pubblico, sceglieremo un partner che ci metterà nelle condizioni economiche di poter abbassare maggiormente il costo di questi trattamenti ma dal mio punto di vista questi sono i soldi spesi meglio perché nel momento in cui uno fa prevenzione previene quello che potrebbe essere un danno non solo sociale e economico ma un danno umano che è appunto una malattia di questo tipo. Altre iniziative importanti che noi intendiamo sostenere e portare avanti e che hanno visto anche la concretizzazione già realizzate sono iniziative culturali perché è fondamentale anche questo, è fondamentale anche fare una programmazione da un punto di vista culturale sui lavori pubblici l'ho spiegato prima, la priorità nostra chiaramente con quelle poche risorse che abbiamo è la realizzazione, il completamento della strada Morella. Dal mio punto di vista è un passaggio epocale per Rignano, epocale perché si crea per la prima volta internamente alla comunità quindi senza grosse colate di cemento, senza grosse opere infrastrutturali una via totalmente alternativa rispetto a quello che è la Flaminia. Partire da Valle Lunga, arrivare al centro storico senza mai fare la Flaminia è un discorso diverso di sviluppo della propria comunità, con quelle poche risorse che noi abbiamo stimato e che sono risorse concrete perché anche là abbiamo messo in bilancio un valore in termini economici pari a quanto era l'incassato dell'anno precedente rispetto a tutte le voci. Quindi se vengono confermati gli step di incasso dell'anno precedente vedrete che durante il 2017 andremo a fare l'opera in termini concreti, l'appalto dell'opera perché per quanto riguarda la progettazione mi auguro che nei prossimi giorni gli uffici già diano mandato concreto con un avviso a poter realizzare la progettazione esecutiva. Aggiungo inoltre, si stanno cercando appunto di fare delle iniziative per quanto riguarda la sensibilizzazione ulteriore di quella che è il contesto dei rifiuti, il contesto della raccolta differenziata. Avete visto noi abbiamo finalmente inaugurato l'isela ecologica che è un punto attrattivo. Ho sentito dire da parte di alcuni cittadini, dice prima c'era l'opportunità di poterle portare sotto al comune e ora invece dobbiamo andare a Pietrolo. È vero che il cittadino non è mai contento, era mai subituato su questo, però la logica qual è? È quella di dire che oggi noi abbiamo un punto diverso, noi dobbiamo tutti quanti i cittadini utilizzare Pietrolo per fare un'ulteriore classificazione della differenziazione e quindi quello che fino ad oggi non siamo riusciti a differenziare, con Pietrolo possiamo cominciare a farlo e quindi creare una tipologia ad hoc per il legname, creare una tipologia ad hoc per tutta una serie di rifiuti che noi con una raccolta porta a porta come abbiamo non si può concretizzare. Ho parlato varie volte con il mio assessore su questo, c'è la possibilità e la speranza però bisogna cercare di adeguarsi e di avere gli strumenti efficaci da un punto di vista anche di concretizzazione per quanto riguarda l'effettiva realizzazione e il rapporto tra il costo della nettezza urbana che il cittadino ha con l'effettiva produzione dei rifiuti. Da questo punto di vista noi abbiamo già un sistema che esiste a Rignano e che ci dà la possibilità di monitorare quella che è la produzione non in termini quantitativi perché ragioniamo sempre che è difficilissimo poter trovare degli strumenti funzionali che misurino al momento in cui uno fa la raccolta del contenitore anche l'effettiva produzione in termini quantitativi. Ma noi oggi abbiamo già un monitoraggio per quanto riguarda il rapporto tra il numero degli scarichi per alcune tipologie e il soggetto che produce rifiuti. Altri aspetti importanti, questa è chiaramente un'annualità di programmazione, l'annualità in cui noi intendiamo fare delle iniziative anche da un punto di vista di miglioramento ulteriore dei servizi. Lo vedete nei punti successivi all'ordine del giorno. Abbiamo cercato di dare un'impronta di accentramento dei costi. Per quanto riguarda le gare, non so se avete notato, noi abbiamo messo insieme gare che in precedenza andavano singole e abbiamo accorpato. Questo perché? Perché in questo modo si cerca di dare chiaramente all'ente, nel momento in cui si fa un buon capitolato, io ho fiducia nei miei uffici che possano realizzarlo in maniera chiara, una riduzione dei costi o quantomeno con un nuovo sistema, un nuovo codice degli appalti, un miglioramento della qualità dei servizi e un miglioramento del prodotto che noi possiamo offrire al cittadino. E quindi vedrete che per quanto riguarda i servizi della mensa andranno insieme a quelli dell'asilo nido. Perché da questo punto di vista, questo è un mio fiore in cui mi ero impuntato, sempre pasti si fa. Nel momento in cui noi sappiamo che tanto le educatrici che attualmente sono presenti all'asilo nido c'è l'obbligo contrattuale da qualunque soggetto venga della riassunzione, tanto vale, visto che le operatrici sono brave, professionali e competenti, cercare di ottimizzare il costo della fornitura del pasto, sia per quanto riguarda l'asilo nido, sia per quanto riguarda la mensa. L'auspicio è che nell'ambito in cui la parte formativa delle educatrici possa continuare a migliorare e quindi andremo a trovare dei partner sempre migliori per la gestione di questi servizi, anche da un punto di vista di qualità della produzione del cibo, sia per l'asilo nido che per la mensa, ma al contempo avere anche una piccola riduzione dei costi in un momento in cui lo Stato abbatte chiaramente quelle che sono le nostre entrate, è un dato significativo, io invito tutti quanti a ragionare, nel 2016, ad agosto 2016, lo Stato preleva dalle casse del comune di Rignano Flaminio per l'Imu e la Tasi circa 2 milioni e 200 mila Euro, questo è chiaro che comporta delle difficoltà in termini programmatorie, ora nella comunicazione che hanno fatto, che è accessibile a tutti quanti i consiglieri, ma a tutti i cittadini, si indica chiaramente che il rapporto di inversione dovrebbe finalmente concretizzarsi, si parla di ristoro della Tasi, almeno vi do tutta una serie di dati che probabilmente se non state dentro proprio la macchina amministrativa non potete conoscere, quando andrate a leggere quello che è il sistema di trasferimento delle risorse, voi vi detrete, ristoro Tasi, una quota in termini di centinaia di migliaia di Euro, peccato che il comune di Rignano Flaminio in un'anualità precedente incassava almeno una volta e mezzo quello che è indicato, quindi da una parte ci levano la fonte di entrata della Tasi prima casa e dal contempo ci dicono che mentre io prima guadagnavo per ipotesi un milione di Euro e incassavo dalle tasse di cittadini un milione di Euro, ora il ristoro corrisponde a 400-450 mila Euro, quindi i bilanci comunali chiaramente in questo caso si riducono di almeno 500-550 mila Euro, ho dato delle cifre spot che poi nello specifico se volete potremo andalizzare in un'altra sede, ma questo è un modo per farvi capire che da questo punto di vista la politica amministrativa diventa sempre più completa, complessa, complicata, ma col nuovo sistema del bilancio armonizzato vi dà la possibilità anche di avere un'ulteriore sfida all'interno come amministratori perché questi 5 anni saranno fondamentali per dare l'impronta decisiva per il futuro della propria comunità, perché il nuovo sistema farà chiaramente capire a tutti quanti i cittadini che col principio che prima vengono le entrate e poi vengono le uscite, automaticamente è necessario una politica seria di riscossione, una politica seria e adeguata anche di servizi che il Comune offre, perché fare le gare insieme nel momento in cui noi già avevamo efficientato i servizi in precedenza, ma fare gare insieme ci permette ulteriormente di poter vedere se ci può essere un piccolo margine di efficientamento dei costi ulteriori e fare gare in una durata medio-lunga da un ulteriore potenzialmente, da un'ulteriore possibilità di riduzione, di aumento di quello che potrebbe essere il costo che noi andremo a sostenere. Questo è a grosse linee il bilancio comunale. Nello specifico ci sono i singoli interventi che si fanno a livello associativo, di sostegno nei confronti della cultura, delle associazioni, delle iniziative che vanno fatte per quanto riguarda il sociale, nei rapporti con le scuole, gli investimenti che noi andiamo a fare sulle scuole che sono fondamentali, soprattutto in questo momento in cui i ragazzi viva Dio, Rignano cresce e quindi è necessario fare dei ragionamenti in termini anche futuri di una nuova programmazione di plesso. Quello era un impegno che io ho preso chiaramente in campagna elettorale e nel nostro nuovo piano regolatore, quando lo andremo a provare in questa sede, la nostra volontà è quella di indicare chiaramente le aree dove poter realizzare questo e immaginare anche delle iniziative da questo punto di vista. È logico, il tutto deve essere apportato per fortuna a quello che può essere concreto. Oramai i bilanci non vengono più fatti su quello che piacerebbe fare, ma quello che oggi si può fare sulla base di quello che io incasso. Grazie al Sindaco, ci sono interventi in merito. Consigliere Berretta. Grazie Presidente. Innanzitutto su quello che si vuole fare, intanto il triennale è il libro dei sogni, quindi benvenga l'avevo messo prima, nel senso la chiusura era su quello che si può fare, non quello che si vorrebbe fare. Quello che si vorrebbe fare è il punto prima, quello che è il triennale, quindi benvenga. Un paio di cose volevo dire, innanzitutto sulla rottamazione, vorrei tornarci, ma proprio brevemente, perché ho visto che il Sindaco ci ha risposto, però non vorrei che passasse il concetto che noi abbiamo fatto una richiesta che vogliamo levare le sanzioni e le altre cose. Mi è saltato un po' agli occhi perché un cittadino mi ha portato una cartella a IMU del 2012 in cui c'era un errore di 20 euro su una cartella di quasi 400 euro, quindi sicuramente lì è stato un calcolo sbagliato, penso, del commercialista, perché un esodio di un libro la fa al commercialista, mi arrivo a casa, io vado a un banco e la pago, quindi su quelle 20 euro si è trovato tra mora, sanzioni, altre situazioni, quasi 120 euro di sanzioni, allora io sotto quel punto di vista volevo un pochettino andare in cite sul regolamento in cui avere un conto, uno che vedi che chiaramente ci ha marciato un conto, una situazione tipo di 20, 30, 40 euro, penso che quello è il regolamento che immaginiamo noi, non il fatto che uno non ha pagato nel 2012, andiamo dicendo, va bene, ce n'è successo niente, pazienza, una pacca sulle spalle, se no daremo un messaggio sbagliato sicuramente, perché secondo me le tasse se le paghiamo tutti verrebbero pagate meno, le tasse vengono pagate in base ai beni che hai, non è che uno se le inventa una mattina e si dice oggi mi devi darmi un euro, no, se tu hai tante case è giusto che paghi tanto di IMU, tanto di altre situazioni, quindi il progetto che abbiamo in mente noi non è quello di facciamo una sanatoria a chi ha avuto, ha avuto, chi ha dato, sarebbe un messaggio sbagliatissimo verso le persone che hanno sempre pagato, tutta l'altra azione che intendiamo noi, siccome è anche proprio un regolamento che fa il comune, che è legge nazionale, ha deciso questo, però fermo l'estando che il regolamento comunale è proprio quello che va a incidere su tante piccole situazioni, noi vorremmo a incidere sulle piccole situazioni, sugli errori e anche su magari su delle situazioni che sono cambiate nel corso degli anni, anche il reggito di una persona può cambiare da un anno all'altro, quindi un occhio attento di un'amministrazione può aiutare delle situazioni in difficoltà, ecco questo era l'invito, non il fatto di andare a una pacca sulle spalle. Colgo con favore i cesti alimentari perché come ho avuto gli alimentari è stato secondo me una cosa per tante famiglie ottima per chi è un po' scriteriato, io ho visto gente con casse di birra, con situazioni che sono indescrivibili e che secondo me il cesto alimentare è un'altra situazione e se è portato a casa da delle persone con potenti è anche una cosa bella perché vai anche a interfacciarti con delle famiglie che hanno bisogno e magari riesci a evitarli anche sotto altri punti di vista, perché c'è quel contatto umano che secondo me fa la differenza di dato il pacco che è importante ma io poi dà un piccolo aiuto, non è che la soluzione di tante piccole situazioni. Un paio di domande invece sul bilancio, ho visto sull'anticipazione di cassa che ha messo 3 milioni e 127, l'anticipazione di cassa, la chiusura dell'anticipazione di ricevuta dalla tesoreria, sono sicuro che quella è la soglia massima che si può mettere in bilancio di messa la soglia massima, non credo che il Comune di Gnano sia 3 milioni, voglio sapere, siccome non l'ho letta nei dati, quant'è l'anticipazione di cassa che oggi è al Comune e capire quanti sono gli interessi che oggi paga il Comune per cercare di fare una lotta, per cercare di abbassare il più possibile l'anticipazione di cassa perché penso che saranno belle salate in anticipazione. Un'altra cosa che voglio dire, che c'entra un po' poco con il bilancio, però con la chiusura del Sindaco, che vedo con piacere un pochettino che dopo sei anni che fa il Sindaco ha capito che la logica di fare le gare a lungo termine non è un assegnare a una persona, una ditta o altre situazioni, un pacchetto dice almeno per cinque anni ce l'hai tu, non mi dicevi niente a nessuno, ma è soltanto un modo per far sì che un imprenditore può investire su quel settore e può dare un risparmio all'ente e questo fa piacere perché le scelte fatte a me da assessore all'epoca erano proprio sotto questo punto di vista, però poi ognuno lo vede a modo suo. Grazie. Sto cercando, qualcuno dice, di farmi diventare zen e quindi mi mordo la lingua, non accetto la provocazione e vado avanti, nel senso che allora al di là delle battute, l'anticipazione di cassa deliberata non è 3 milioni e 3 ma sono 5 milioni e 2, la banca Unicredit ancora non ci ha autorizzato a raggiungere quella soglia, il massimo sono 5 milioni e 2, come si calcola il massimo? È un valore fisso, in base alle valori delle entrate e gli accertamenti fatti c'è una percentuale, quello è il massimo che tu vuoi contrarre di anticipazione di cassa. È logico, non siamo a quelle cifre, siamo sotto, siamo abbastanza alti, siamo intorno a 1 milione e 8, 2 milioni di Euro di anticipazione, ma calcolate sempre su questo infatti c'è un ragionamento che noi dovremmo fare, avevo iniziato con la vecchia ragioniera e mi auguro che con il nuovo responsabile si possa fare anche questo ragionamento. Noi stiamo anticipando tanti soldi su finanziamenti regionali, stiamo anticipando tanti soldi su l'RSA, su tutto quello che è il mondo socioassistenziale che la regione paga con due o tre anni di ritardo e che invece l'ente è obbligato a pagare entro una certa soglia pieni decreti ingiuntivi. Quindi è una situazione in cui noi dobbiamo dare chiaramente un'impressione ai cittadini che è fondamentale pagare nelle scadenze, però devo dire che a fianco a questo è importante cominciare a analizzare pure concretamente quello che bisogna fare nei confronti della regione con la consapevolezza che la strada è unica, ma che quella strada potrebbe non portare benefici in termini economici di cassa, perché non è detto che il giorno dopo che tu fai l'azione legale ottieni il contributo, perché le casse della regione sono drammatiche da questo punto di vista. Per quanto riguarda le gare, Andrea, io te lo dico chiaramente, oggi è giusto far gare di cinque anni, ho davanti un mandato di quattro anni e mezzo e è giusto che io sia nelle condizioni durante il mio mandato di poter fare la durata delle gare per tutto il mio mandato e poco oltre, per garantire a chi verrà dopo di me un piccolo interregno che gli permette la possibilità di poter vedere le condizioni oggettive quale sono, vedere, concretizzare i servizi e poi avere il tempo per poter fare i capitoli di gara. L'altra volta ne era proprio così, perché se non andavo a recuperare alcuni contratti, alcuni scadevano alla fine del mio mandato, secondo mandato da sindaco, quindi sarei stato dieci anni e oltrefermo, ma al di là delle battute, che sono solo battute, al di là delle battute, no mi riferivo ad altre cose, mi riferivo ad altre cose, però al di là delle battute, è importante da un chiaro segnale col bilancio oramai, perché ribadisco, i nuovi sistemi contabili è completamente un sistema diverso di calcolare quella che è la politica amministrativa dell'ente, è un modo completamente che rivoluziona quello che è la gestione comunale e dal mio punto di vista questo è un modo per verificare alla fine la bravura o meno delle amministrazioni, quindi è una sfida ulteriore, perché si parte con un handicap, che è l'handicap delle anticipazioni che la stragrande maggioranza dei comuni hanno, perché purtroppo da quando non ci sono più trasferimenti il cittadino è sempre uno, se al cittadino gli chiediamo se paga l'Imu, l'IRPEF nazionale, la Tasi e tutte le tasse, poi alla fine fa delle scelte e purtroppo alcune volte le scelte sui pagamenti delle tasse comunali vengono considerate come meno importanti. Questa politica di lotta all'evasione, di lotta all'illusione, di aggressione nei confronti di coloro che si divertono a non pagare, no che non possono, ma che non si divertono a non pagare, automaticamente diventa fondamentale. Non so nemmeno se lo sai, perché non è che è compito, nonostante c'è questa delega, poi sono cose tecniche, non so se mi potete rispondere su quanti sono gli interessi che paghiamo oggi con l'anticipazione di cassa come comune alla tesoreria. D'altro modo? Sì, 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 io ti dico, il calcolo dell'anticipazione di cassa uno lo può fare veritiero, Andrè, alla fine dell'anno, perché il calcolo dell'anticipazione di cassa si fa sulla base dei flussi che tu hai, di valori in entrata e valori in uscita, e quindi il valore reale, concreto, da mettere in bilancio, tu lo puoi fluttuare nell'arco dell'anno. Il valore che l'amministrazione ogni anno stima è quello intorno ai 25 mila Euro. Da questo valore poi bisogna vedere qual è il trend. Prima perché ti ho detto che è fondamentale anche una politica seria di incasso, ma è fondamentale anche che lo Stato capisca che se l'imolatasi i cittadini lo pagano a giugno, tu ai primi di luglio me lo devi trasferire, se me lo trasferisci ad agosto e da quel trasferimento di agosto invece di trasferirmi i due milioni me ne trasferisci uno, è naturale che la mia anticipazione scende meno ed è naturale che quindi io sono costretto a pagare più interessi rispetto a quello precedente. La totalità degli interessi che il comune di Rignano paga tra mutui e anticipazioni di cassa sono intorno a 100 mila Euro. Di cui l'anticipazione di cassa oscilla tra i 25 e i 30 mila Euro, con questi valori che vi ho detto che sono funzionali a quella che i trend e i flussi in entrata e in uscita. Altri interventi, consigliere Santilli. Concordo sul fatto che sia, io stavo riguardando il bilancio 2016 e anche quello 2015, sia un bilancio ormai ingessato, nel senso che i margini di manovra per l'amministrazione non sono più così ampi. Anche nella stessa trend dell'anticipazione di cassa, che si ripete costante, sia forse per termini, per opportunità di calcolo, ma anche difficile ad oggi prevedere un recupero di quello standard. Non concordo sul fatto che sia un bilancio tecnico, nel senso che poi il messaggio politico c'è, voglio dire, quando io guardo lo stato per la formazione e lo sviluppo della formazione e l'orientamento professionale, che è zero, quello è un dato anche politico. Quando vedo che lo sviluppo e la competitività del territorio dà il pari a 7500 euro, anche quello è un dato politico, rispetto ad un insieme di spese che arriva a 11 milioni e 200 mila euro, non trovare per quelle voci significa avere comunque fatto delle scelte. Probabilmente sono delle scelte di reazione a determinate situazioni, problemi, è chiaro l'intento di salvaguardare ad esempio l'assistenza, però sono scelte anche politiche, non sono ancora scelte tecniche, anche nella contingenza e nelle restrizioni dell'ente. Tra l'altro, ecco, con una curiosità, prima si parlava di iniziative della tutela della salute, però anche qui, in questo caso, il valore sulla tutela della salute per la missione specifica è zero, anche in questo caso. Evidentemente poi rientrano in altri capitoli di spesa. L'ultima cosa, però è un chiarimento questo, è la segnalazione che fa il revisore sul fondo pluriannale vincolato, che credo in parte mi sia stato risposto prima con quel chiarimento sulle opere triennali, ecco, su questo infatti chiedo prevalentemente soltanto un chiarimento in termini tecnici. I dati di bilancio, come li stai vedendo, sono su dati macroaggregati. I dati macroaggregati, se uno imputa l'impostazione, per esempio, degli screening che vi ho detto, su un capitolo all'interno di un macroaggregato può uscire in termini di tutela della salute. Per comodità all'interno degli uffici si è scelto di imputare queste somme su capitoli già esistenti e quindi significa che può risultare impennata una voce, per esempio, sul sociale, quando invece quella voce sul sociale si chiama tutela della salute. Tant'è, nell'aspetto concreto del capitolo di bilancio, ti faccio proprio l'esempio concreto perché almeno ti fa capire che dal macroaggregato è difficile riuscire a capire quella che è l'impostazione politica perché bisogna vedere nel sottovalore del capitolo, dell'articolo, della missione, quello che è l'imputazione dell'oggetto perché imputare un oggetto, per esempio, nello concreto, quello di screening all'interno della voce salute significava creare una nuova missione per quanto riguarda il bilancio comunale con un nuovo intervento e con un nuovo capitolo e di articolo. Il prossimo bilancio mi auguro che sarà fatto in questo modo, mi auguro che sia fatto in questo modo perché almeno è un po' più chiaro per tutti quanti. Ti do proprio il dato specifico perché almeno nel frattempo che lo cerco e vado avanti ti dico, chiaramente la risposta è sì, è tecnica, è quello che ti ho detto prima conferma quello che è messo in evidenza. Un dato importante del bilancio che è giusto considerare è quello dei fondi di credito di esigibilità, che è una specie di fondo di garanzia. Se i residui ballano nel senso che i valori di quello che uno ha previsto rispetto a quello che incassa crea un delta sul mancato vagamento del cittadino, è giusto che l'amministrazione comunale sia prutente e stanzi una somma in quota percentuale a garanzia. È un obbligo di legge, ma dico che è fondamentale questo obbligo di legge rispetto alla politica che ci siamo detti sopra. E quindi immaginate che il bilancio comunale di questo capitolo passa da 152 mila euro a 283 mila euro. Quindi non è perché ci sono stati meno pagamenti, ma perché la percentuale richiesta di compartecipazione dell'ente sul mancato vagamento aumenta e quindi si passa da un 50 al 70. Nello specifico ti dico proprio l'intervento 11.04.03.35, spese per finalità sociali, prestazione di servizi. Può essere chiaramente interpretata come una spesa per finalità sociali e come prestazione di servizi. È chiaro che sarebbe meglio chiamarlo non spese per finalità sociali e basta, ma spese per finalità sociali, tutela è prevenzione e quindi andarla a inserire in questo capitolo ulteriore. Un piccolo suggerimento. Io negli altri anni ho fatto sempre la richiesta, poi mi annoio perché sono sempre le stesse cose. Capisco che è prettamente tecnico e non c'è dubbio e quello che ci dovete fornire a noi è questo. Così, evito di scrivere, dovete fare polemiche, sembra sempre una polemica. Non voglio proprio fare polemiche. Però se noi consiglieri comunali ce le date in titoli, in capitoli invece che in titoli, perché dopo è vero che il capitolo era chiuso in titoli. Tanti titoli come vengono fatti? Tante piccole voci, tanti piccoli capitoli che ho visto tu l'hai sfogliati, come è giusto che sia, perché i consiglieri di maggioranza ce ne avranno per capitoli sicuramente al 100%, ecco ognuno sa sulla sua tele che ha bene o male qual è il margine di manovra, se no l'iniziativa sia sulla salute, culturali, qualsiasi cosa. Mentre per noi per titoli è quasi impossibile andare anche a fare una piccola richiesta. Magari se avessero pure tante discussioni in consiglio da poter andare ad affrontare direttamente o con emozioni o con altre situazioni. È proprio una richiesta, tanto se la mette al verbale, sul bilancio se ci viene dato almeno a noi come consiglieri in capitoli e non in titoli, in modo che uno può vedere benissimo la volontà amministrativa dove è diretta, che chiuse in titoli poi si racchiude tante situazioni in cui sembra che è zero, invece poi che stanno 100 mila euro su quel capitolo, sul sociale potrebbe essere, dice ma quanto hanno speso? Invece poi è diviso sotto tante sottozone, che è prettamente tecnica tra noi, però sicuramente va molto incidere sotto la sfera politica che è quella che facciamo noi, questa è prettamente tecnica che non è messire il nostro. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. altri interventi? Ci sono altri interventi in merito? Consigliere Cincozzi, ma dobbiamo registrare, se no... Allora, se non ci sono altri punti in merito, osservazioni in merito, votiamo il punto all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Tre voti astenuti. Votiamo anche l'immediata eseguibilità del punto. Favorevoli? Contrari? Contrari? Berretta? No. Astenuti? Tre astenuti come sopra. Passiamo al tredicesimo punto all'ordine del giorno, che è l'autorizzazione sempre ai sensi di legge ad effettuare impegni di spesa sugli esercizi finanziari successivi al pluriannale per la affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico e assistenza ai minori sugli scuolabus per cinque anni a partita dal 2017-18. La parola al Sindaco. Chiaramente rientra nell'oggetto che abbiamo appena detto e nelle considerazioni fatte in precedenza, la differenza è appunto che mentre prima era 4 più 1, quindi fin dall'inizio si dice 5 annualità. Ci sono interventi in merito? Credo di aver capito che i servizi che oggi sono gestiti da Cenciotti e Quality Service verranno affidati a una ditta sola, che secondo me è anche una cosa, vuol dire, di efficientamento del servizio. Interventi in merito, passiamo alla votazione, favorevoli, contrari, astenuti, tre voti astenuti, l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, come sopra la votazione. Passiamo al quattordicesimo punto all'ordine del giorno. Autorizzazione ai sensi di legge per effettuare impegni di spesa sugli esercizi finanziari successivi al pluriennale, per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica, scuola, infanzia, primaria e ludoteca e gestione dell'asilo unito comunale per 5 anni scolastici. La parola al Sindaco. Anche qua penso che ci sia ben poco da chiarire al Consiglio. Facciamo un'autorizzazione per l'annualità di 2020 e 2021, perché i primi tre anni sono all'interno del programma triennale, mentre per quanto riguarda gli ultimi due dobbiamo chiarire l'autorizzazione. Si fa una gara di 5 anni e era quello che vi accennavo all'inizio. Secondo me è giusto nella gestione del servizio mettere insieme l'asilo nido, salvaguardate le educatrici con il principio che ci siamo detti prima e quindi tutti gli aspetti formativi necessari per quanto riguarda le educatrici, ma mettere insieme l'asilo nido e mensa sono due settori che possono essere tranquillamente con l'intigui l'uno con l'altro e quindi possono garantire quell'ulteriore efficientamento necessario e quindi mi auguro anche quella riduzione dei costi. Ci sono interventi in merito? Consigliere Santilli. Invece ho qualche dubbio, nel senso che la mensa, intendiamo la mensa della scuola elementare, della scuola secondaria del primo grado. L'asilo nido è un servizio di tipo pedagogico educativo, quindi ci sono, oggi abbiamo Virtus Italia Ollus e Bioristoro se non sbaglio, sono due realtà, due aziende diverse, una è specializzata nei servizi di ristorazione e l'altra ha dei servizi invece di progettazione didattica. Ci sono realtà che possono fare entrambe le cose perché a me sembrano due servizi, un conto è dire la maestra dell'asilo nido che prepara il cibo per il ragazzo, un conto è dire la stessa azienda che ha un servizio di mensa industriale che soddisfa le esigenze di centinaia di ragazzi da un lato e al tempo stesso anche un'equipe di professionisti che lavora sull'asilo nido. Non lo so, su questo qualche dubbio mi viene, magari sono già state fatti delle ricerche di mercato e ci sono dei soggetti in grado di coprire questo servizio. È l'unica gara dove francamente ho qualche dubbio. Ti posso dire che ricerche di mercato io non le ho fatte e non ne voglio neanche sentire parlare, però ti dico chiaramente che gli uffici delle valutazioni sono state fatte da parte loro e laddove non c'è un soggetto specifico che è in grado di fare la gestione dell'uno e dell'altro, la normativa ti dà la possibilità di fare lati e quindi da questo punto di vista che poi l'impresa sia uno o sia due o siano tre, oggi in questo momento non mi interessa relativamente. Quello che mi importa è il segnale, è appunto quello di dire c'è o meno omogeneità, la segnalazione che fai è giusta, ma dal mio punto di vista io salvaguardo quello che è la parte formativa educativa perché comunque c'è l'obbligo di riassunzione dei dipendenti attuali che sono all'interno e quindi qualunque società entra uno dei valori oggetto del capitolato, l'abbiamo data come indicazione all'ufficio, appunto anche quella della formazione del dipendente. Quindi laddove si sarà individuato a Pocara un soggetto che non avrà competenza su quello, si dovrà valere comunque di un informati o di una collaborazione con qualcuno perché queste sono voci obbligatorie della capitolato. Sì, no, quello che volevo aggiungere è solo questo, che intanto le società del solito che fanno queste società di servizi, quello che è fondamentale è poi la qualifica all'interno poi dei vari servizi. Come è normale che io non penso che l'amministrazione ha in mente di mettere una maestra poi a cuocere, sicuramente se saranno degli inservienti, delle cuoche, ci saranno le educatrici. Questo penso che va specificato. Grazie. Passiamo al quindicesimo punto all'ordine del giorno, rinnovo del Consiglio di Biblioteca. La parola al Sindaco. Chiedo al Consiglio la sospensione di cinque minuti. Allora, votiamo la richiesta di sospensione per valutare questa proposta, quindi votiamo favorevoli all'unanimità, quindi il Consiglio è sospeso. Dicesimo quindi punto all'ordine del giorno, rinnovo del Consiglio di Biblioteca, passo la parola al Sindaco. Come da regolamento io devo fare la proposta di dieci cittadini al Consiglio Comunale che poi si votano in formula palese. E io propongo al Consiglio Comunale di nominare Nicoletta Iommi, Katia Marchizia, Cinzia Cilona, Claudio Damani, Paola Mancini, Paola Falesiedi, Claudia Doraiti, Emanuella Ciarafoni, Anna Maria Di Lorenzo, Luigi Lazzari e Rita Raponi. Allora, votiamo per alzata di mano questa, quindi tutta l'intera proposta. Favorevoli, contrari, astenuti, un'astenzione del Consigliere Santilli. Ora dobbiamo invece nominare i due consiglieri di maggioranza e minoranza, uno e uno, che faranno sempre parte del Consiglio. Per fare questo, siccome ci vuole la votazione a scrutino segreto, quindi dobbiamo nominare il seggio per lo scrutinio. Io propongo due nomi, uno per l'opposizione e uno per la maggioranza. I due consiglieri più giovani, Anita Poeta e Andrea Arrivi, se possono venire a fare lo scrutinio e quindi dare i biglietti a ogni consigliere comunale. Ricordo che ogni consigliere ha a disposizione un voto di un consigliere. Può esprimere la preferenza per un consigliere comunale. Siamo segretari adesso. Gioca, gioca. Gioca, gioca. 12 fogli per i consiglieri comunali. Grazie. 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 Il segretario, devi aprire il busto l'occhio? Ani, devi aprire il busto l'occhio. Apriamo la scatola. Uno apre, l'altro apre il biglietto. Presidente Legge. Grazie. Ciccozzi Patrizia. Ciccozzi. Marcorelli. 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 Ciccozzi. Ciccozzi, Ciccozzi, Marco Relli. Allora, quindi sono stati espressi due consiglieri comunali, quindi Ciccozzi e Patrizia quattro voti e Marco Relli otto voti, quindi i due consiglieri nel Consiglio sono Ciccozzi e Marco Relli. Allora, abbiamo votato il punto all'ordine del giorno, ora votiamo anche l'immediata eseguibilità del punto, favorevoli all'unanimità. Passiamo al sedicesimo punto all'ordine del giorno, approvazione della Convenzione per la gestione associata delle funzioni di centrale unica di committenza con il Comune di Fiano Romano e Comune di Montelibretti. La parola al Sindaco. Con questa delibera noi andiamo a recedere dalla precedente convenzione che avevamo con il Comune di Mentano e aderiamo alla centrale di committenza già costituita dal Comune di Fiano e il Comune di Montelibretti. Devo dire che è stato un atto necessario e purtroppo la collaborazione con il Comune di Mentano non ha portato agli esiti sperati e quindi avendo a breve tutte le care che avete visto siamo andati a provare in precedenza è diventato doveroso fare la recessione della precedente convenzione e quindi approvare la nuova convenzione con il Comune di Fiano e il Comune di Montelibretti. Sapete tutti quanti voi consiglieri che con la centrale unica di committenza, il Comune di Rignano Flaminio in maniera autonoma non può più fare gare al di sopra una certa soglia perché il CIG che ha il codice identificativo per rimettere la gara lo può prendere soltanto la centrale di committenza e quindi in questo caso andremo aderire a quella tra Fiano e Montelibretti. Ci sono interventi in merito, Consigliere Santilli? I problemi ci sono stati nel funzionamento di questa... Una serie di capitolati di gara al quale non hanno mai dato seguito e quindi questo generando anche dei ritardi per quanto ci riguarda su tutta una serie di servizi e su una programmazione iniziale che noi avevamo immaginato, se vi ricordate anche nel vecchio consiglio comunale noi facemmo un'autorizzazione per fare una gara pluriannale che non è mai stata svolta, oggi noi l'abbiamo revocata insieme a tutti gli altri atti perché poi l'ente è stato obbligato a farlo in formula annuale singolarmente perché era sotto soglie e poteva fare il CIG. Io mi auguro che con il nuovo sistema si possa procedere in maniera più rapida perché appunto oramai le gare diventano vitali anche per la fase programmatoria dell'ente. Diciamo che la motivazione non voglio da troppe responsabilità al Comune di Ventana, se non nella fase in cui hanno fatto una centrale probabilmente superiore rispetto alle capacità di personale che loro avevano in termini numerici perché si era scelta una modalità in cui le gare effettivamente dal capitolato l'ente locale che aderiva andava all'atto di indirizzo, l'elaborazione del capitolato e l'esplicazione della gara sarebbe stata tutta quanto a cario del Comune capofile alla centrale di committenza e questa era una procedura optimum su carta ma nella sostanza poi se non hai le persone adeguate non riesci a concretizzarla. In questo caso quindi si fa una procedura un po' più snella, però dovete sempre ricordare che con la nuova normativa sul codice degli appalti e soprattutto con la nuova circolare dell'ANAC del inizio marzo 2017 o fine febbraio dà chiaramente delle indicazioni sui componenti delle commissioni di gara, quindi laddove le gare vengono fatte economicamente più vantaggiosi con i criteri aperti significa che c'è spazio alla discrezionalità e all'essere soggettivo del componente della gara, della commissione di gara, automaticamente c'è il vincolo di non poter far parte della commissione di gara a tutti quanti i dirigenti che emettono l'è capitolato e anche esteso laddove appunto questi criteri non sono aperti e non sono chiusi a i RUP degli altri comuni aderenti alla CUC. Questo che cosa genererà in futuro? Perché al momento purtroppo lo Stato ha fatto una norma, sono stati fatti circolari ma non ha fatto la cosa più importante che è l'albo dei commissari di gara, quindi lo Stato prima o poi farà un albo a livello nazionale o regionale, questo dovremo capirlo, dal quale noi poter attingere. In questa fase quindi è discrezionale da parte coloro che prendono il CIG e quindi dalla CUC andare a nominare i componenti della commissione di gara, in questa fase transitoria quindi le procedure le andiamo a fare col comune di Fiano e col comune di Montelibretti e poi i commissari di gara in attesa dell'albo saranno nominati dai presidenti della CUC. Ci sono altre osservazioni? Altrimenti mettiamo in votazione il punto all'ordine del giorno, favorevoli? all'unanimità, noi votiamo anche l'immediata eseguibilità, favorevoli? All'unanimità. L'ultimo punto all'ordine del giorno, l'approvazione dello schema di convenzione per il servizio associato delle funzioni in materia di TPL, trasporto pubblico locale ai sensi di legge. La parola al Sindaco. Allora, questo è un atto molto importante. La Regione Lazio sul trasporto pubblico locale, lo vedete su tutte le cronache dei giornali, sta andando in una direzione che per assenza di trasferimenti da parte dello Stato sta tagliando quelli che sono il chilometraggio del TPL. Si parla di Rignano ma nella cronache nazionale si parla soprattutto dell'Atac e di quelle che sono le conseguenze nella gestione del trasporto romano. Dopo una serie di incontri fatti a livello regionale con gli assessori specifici ma soprattutto con i dirigenti si è trovata questa soluzione di fare una gestione aggregata di servizio per evitare il taglio ma con l'obiettivo dell'efficientamento delle corse. Dal mio punto di vista questa è una grande opportunità per Rignano. Uno perché quella che era il sistema dell'attuale contratto di servizio prevedeva delle corse soltanto intra Rignano e non tra comuni limitrofi che potevano servire a dare al cittadino ulteriori servizi. Esempi su tutti perché poi se avete visto noi facemmo in passato una delibera di indirizzo che prevedeva l'adesione di alcuni comuni. Strada facendo alcuni di questi comuni sono stati commissariati. Quindi in questa fase noi andiamo a fare la convenzione tra il comune di Rignano e il comune di Fiano. È una convenzione aperta. Il comune di Rignano sarà il comune capofila. Al comune di Rignano che cosa compete? Non fare la gara, questo è chiaro, perché la gara la farà sempre il soggetto gestore della cucca a cui il comune di Rignano aderisce. Ma l'elaborazione degli atti e quindi il capitolato ma soprattutto il contratto di servizio. Il contratto di servizio e il contratto di esercizio è la cosa fondamentale nel trasporto perché disciplina la tipologia di corse e soprattutto anche la tipologia di mezzi messi a disposizione. È logico, l'avete visto, nello specifico di di Rignano quelle che sono state le nostre richieste quando abbiamo iniziato il percorso è quello di fare delle corse istitutive per quanto riguarda l'ospedale Sant'Andrea e per quanto riguarda la logica delle strutture scolastiche che sono distribuite sui nostri territori e per quanto riguarda anche i servizi di trasporto tipo le FS. Rignano è scoperto da questo punto di vista. Dobbiamo cercare di dare il servizio ai cittadini per arrivare in maniera trasversale a poter prendere una fermata dell'FS e quindi ragioneremo o per Poggio Mirteto e quindi Farasabina oppure per quanto riguarda Monte Rotondo. La nuova normativa non prevede l'obbligo di adesione del comune in cui si transita, quindi mentre prima in precedenza se il comune di Rignano Flaminio passando Morlupo faceva una fermata a Morlupo doveva avere l'autorizzazione o l'adesione del comune di Morlupo, in questa fase basta una semplice comunicazione e quindi a noi ci dà la possibilità anche senza adesione o di Farasabina o di Monte Rotondo di poter fare la fermata a Monte Rotondo per poter far prendere i nostri cittadini e le FS. Questo è vitale perché in questo modo andiamo a bypassare quelle che sono le problematiche che noi abbiamo riferite con il raddoppio della ferrovia. Anche su questo vi aggiorno, i vincoli sono tutti quanti scaduti, quindi ad oggi il raddoppio della ferrovia, anche se su carta continua ad esistere perché il progetto c'è, il comune di Rignano Flaminio non l'ha mai revocato, ma tutta la volencolistica successiva è completamente decaduta, il che significa che se oggi un cittadino di Rignano Flaminio chiede un'autorizzazione a modificare quello che è l'attuale status delle aree oggetto dell'allora raddoppio della ferrovia, il comune ma soprattutto la regione, perché è capitato proprio un esempio concreto, è obbligata a dare parere positivo se ci sono le condizioni urbanistiche di riferimento. Con questa convenzione associata al TPL si parte appunto, vi dicevo con Fiano, ma altri comuni aderiranno a breve, è importante dire questo perché questo ci permette appunto di immaginare una gestione diversa del trasporto rispetto a quella attuale. Per capirci, non si può più immaginare di facorse che vanno a cadenza oraria al cimitero comunale, ma si faranno delle corse, questo non lo vedete nella delibera perché oggetto del contratto di servizio che poi sarà delegata alla giunta successivamente con tutte le giunte ad approvare, ma saranno, vi do queste anteprime prima, ma saranno necessari appunto fare delle corse per le strutture ospedaliere, quelle che possono portare veramente a fare un aumento dei servizi alla nostra comunità, non solo per la nostra ma appunto per tutti i comuni che andranno ad aderire. Ragionate sempre che dietro a una corsa c'è un tot di chilometri che noi rinunciamo all'attuale sistema che abbiamo, quindi in parte il sistema trasportistico sarà totalmente modificato rispetto a come lo vediamo oggi. La proposta mia che farò ai miei colleghi quando sarà il momento è di immaginare di avere più direttrici, una direttrice che appunto è quella che va lungo la Flaminia e quindi da Rignano arriverà fino all'ospedale Sant'Andrea, un'altra direttrice è quella che va nella direzione della di Berina e che ci permetterà a noi di Rignano Flaminio di avere anche quelle corse trasversali che da Rignano oggi ci possono portare a Montero Tondo e che sono il servizio pubblico della Codral non fa se non con doppio mezzo e con orari diversi. È logico, noi non dobbiamo con questo sistema non dobbiamo essere concorrenziali con la Codral, ma noi dobbiamo andare a sopperire alle mancanze della Codral che ci sono garantendo appunto nella prospettiva futura un aumento anche del chilometraggio. Questa è la scommessa che noi abbiamo come sindaci e questo è l'impegno che la regione con noi si è preso nelle varie chiacchierate, quindi significa iniziamo dalle condizioni attuali, facciamo questo cambio di rigo mentale, di approccio al trasporto pubblico, facciamo capire che noi sindaci, ma noi amministratori non facciamo le barricate per le corse cimiteriali che girano a stragrande maggioranza vuote, ma dimostriamo chiaramente che vogliamo dare un servizio pubblico efficiente che sopperisce alle lacune del Codral, ma al contempo da un servizio di qualità ai cittadini. Questa è l'impronta che oggi noi andiamo a provare in convenzione, da cui si parte per poter fare poi adesioni future degli altri comuni. Come funziona? Ogni comune si porta in doda il proprio chilometraggio assegnato, sulla base di quello si fa il monte chilometri annuali che viene splittato poi per più annualità per fare le corse e il contratto di servizio con l'eventuale gestore futuro. Laddove al momento ci sono scadenze diverse tra i vari comuni, ora tra noi e Fiano la situazione è chiara, però ci aderiranno probabilmente altri comuni, laddove ci saranno scadenze diverse nel gestore, la gara sarà fatta e il comune che ha un gestore diverso con una scadenza diversa decadrà al momento in cui si sarà con la gara e la decadenza del suo contratto. Questa è un po' la procedura della gestione sociale. Ci sono interventi? Consigliere Berretta. Brevissimi, due piccoli suggerimenti. Innanzitutto vedo Capena, non so se è un refuso visto che è commissariato, è proprio che Capena aveva firmato la convenzione prima perché ho sentito parlare su Rignano Fiano. Il primo atto che mi viene citato è l'atto iniziale di indirizzo in cui ci mettemmo insieme come totte comuni, che eravamo noi Fiano, Riano e Capena. Nel momento in cui Capena è stato evocato, Riano mi ha chiesto di avere più tempo per fare gli atti, quindi io per correre intanto facciamo noi la gestione associata. Poi probabilmente ci sarà Riano, poi probabilmente ci sarà a Morlupo, ci sono vari incontri, Santoreste sta valutando se aderire o meno a questa opportunità, bene o male abbiamo incontrato come conferenze sindaci, ci siamo confrontati, io vorrei aspettare per fare le ulteriori adesioni la fine delle elezioni amministrative perché andando a rinnovo parecchi comuni nel nostro territorio a quel punto uno poi andrà a dare il valore finale. Però nel frattempo questo a noi ci permette di partire con un nocciolo duro fatto da noi e Fiano che poi orientativamente sono quelli che hanno più chilometri e che ci può permettere di cominciare a ragionare sulle direttrici e sulle prime fasi. Successivamente se altri comuni aderiranno questo significa che la corsa ipotizziamo Rignano-Sant'Andrea non sarà soltanto a carico di Rignano e Fiano in termini chilometrici ma sarà ripartita pure sugli altri comuni e quindi avremo più chilometri per fare altre tipologie di corsi. Due piccole cose, noi abbiamo una convenzione in essere con Faleria, tant'è che l'abbiamo fatta già sette anni fa perché è riuscita la legge che se non superavi 10.000 abitanti veniva soppresso il trapposto pubblico locale, tant'è che ci hanno riconosciuto intorno ai 2.500 chilometri in più, intorno ai 2.000, no magari, non dobbiamo convenzionarsi con nessuno, era Morcotral, quindi non so se quella cosa va inserita anche in questa situazione, verrà fatto sicuramente in automatico, penso di coinvolgere un pochettino anche l'amministrazione di Faleria che è limitrofa. Benvenga perché io lavorando a Fiano vedo che Fiano col Cotra non è che è mal collegato, non ci sono quei collegamenti, tante persone che non hanno la macchina vanno a prima porta e da prima porta tornano a Rignano, quindi secondo me è uno strumento da studiare bene a Tavolino e benvenga che sia verso la ferrovia di Monte Rotondo che secondo me è l'ideale, come sono contento che ci sarà sicuramente una tratta che andrà all'ospedale di Civita e all'ospedale di Sant'Andrea, se aderiscono Civita, Sacrofano, altri comuni che sono interessati, benvenga, se no non è che il TPL non può passare, non può far fermata all'interno di quel territorio, per noi è un buon servizio e fermo restando che se gli altri comuni aderiscono benvenga, se no possiamo andare avanti tranquillamente da soli, quindi ecco perché noi siamo favorevoli, l'importante è che giriamo tutte bene le carte perché purtroppo dietro a tante delle stesse situazioni sono tante ditte che vogliono partecipare a queste benedette gare e poi vorrebbero tutti lasciare bene che prendi soldi, è un programma e non è colpa di comune perché i comuni sotto questo servizio vengono solo l'IVA, il resto è tutto a fondo regionale, però ci sono miliardi di ricorsi che ci porterebbero in uno stallo e non da quel gap che serve ai cittadini e da un servizio maggiore. Grazie. Noi siamo nella fase embrionale, nella fase successiva collaborerà con noi l'Aremol che è l'organismo regionale, quello della mobilità che costruirà insieme a noi sulla base delle indicazioni che noi amministrazioni andremo a dare all'Aremol il contratto di servizio e quindi le relative corsi e quindi il relativo chilometraggio, quindi su questo la parte vitale che andremo a giocare sarà in quel consesso perché in base a come buttiamo giù una corsa con relativi orari che ne consegue è quello poi che andiamo a sopperire alle esigenze che i cittadini hanno. Lo strumento appunto quale è quello di dire che con questo noi facciamo le corse trasversali perché le corse dirette verso la direttrice oriettivamente il Codral le fa con orari diversi probabilmente in alcuni casi rispetto alle esigenze ma con le corse trasversali tu da Rignano puoi arrivare a Capena senza dove scende a Morlupo per poi riandare a Capena. La stessa cosa tu ce l'hai con Fiano, altra situazione che io conosco perché alcuni cittadini hanno manifestato è che i nostri studenti per andare a Farasabbina devo prendere tre mezzi con orari diversi partendo da Rignano-Flaminio alle 6 di mattina per arrivare alle 8 e in quarto. Cioè noi dobbiamo cercare di trovare una soluzione. Nel piccolo abbiamo messo a disposizione con l'attuale gestore del TPL una corsa aggiuntiva per evitare un passaggio che loro stavano facendo. Un domani se una serie di comuni aderiranno avremo un tot di chilometri a disposizione che ci permetterà di poter fare la corsa da Rignano che andrà in quella direzione e viceversa perché noi oggi stiamo pagando uno scotto per esempio come istituto superiore di avere poche iscrizioni per assenza di collegamenti diretti che ci sono da questi comuni verso Rignano domani che possiamo fare noi queste corse un pulma partirà dalla direttrice dal capolinea Fiano che arriverà fino alle nostre scuole e quindi ci andrà anche a caratterizzare e a sopperire quelle lagune trasportistiche che oggi purtroppo ci sono e che non sono difese da noi. Io ho cercato per conoscenza di tutti di poter istituire delle corse aggiuntive ma hanno dei costi esorbitanti voi voi conoscete il mio passato e quindi le cose le conosco. Avere delle fermate in più con le attuali condizioni stradali della Flaminia è impossibile perché la nuova normativa prevede delle isole di entrata e di uscita che nessuna fermata può essere fatta a Rignano Flaminio. Quindi la Cotralla per consuetudine accetta le vecchie fermate ma le nuove richiedono la nuova non rispetto alla normativa e quindi questo è improponibile. Ci sono altri interventi in merito? Passiamo allora alla votazione del punto all'ordine del giorno. Favorevoli? All'unanimità? Votiamo anche l'immediata eseguibilità del punto. Favorevoli? All'unanimità? Terminati i punti da esaminare? Il Consiglio è sciolto e sarà riconvocato a domicilio.